Hey, ciao! Sta per iniziare la seconda puntata della seconda stagione del Breaking Italy Podcast, con ospite il vice direttore della testata giornalistica, Il Post. L'abbiamo registrata qualche settimana fa rispetto a quando sto parlando e la stiamo pubblicando e sono molto emozionata l'idea di farvela vedere. È stata una puntata interessantissima. Francesco Costa è non soltanto l'autore di un podcast molto popolare che si chiama Morning e che fa ogni mattina una rassegna stampa dei giornali italiani, peraltro un po' nello stile del Post, quindi cercando di essere estremamente chiaro e attento alle dinamiche che portano certe notizie sulle pagine dei giornali, ma è anche un giornalista appassionato ed esperto di Stati Uniti e lo vedrete. Abbiamo parlato molto di Stati Uniti e finito questo podcast sarete un po' più esperti anche voi. Prima di partire colgo l'occasione per ringraziarvi dell'enorme affetto e dell'entusiasmo con il quale avete accolto questa nuova stagione del podcast. Sono contentissimo, vi piaccia e ci stiamo impegnando un sacco, anche per migliorare alcuni difetti, come ad esempio l'audio, che a parte l'inizio di questo episodio, lo vedrete, in cui abbiamo avuto qualche problema, dovrebbe essere migliore. A tal proposito, un ringraziamento agli sponsor, Tridon e Gimme5, per averci dato una mano ad accendere il motore di tutto questo. Ah, e visto che ci sono, mi scuserei anche con il professor Alessandro Barbero, che ho ad un certo punto citato senza dire che lo stavo citando. Sostanzialmente perché nell'emozione ero convinto di star tirando fuori farina del mio sacco, e in realtà sono cose che devo aver letto su qualche suo libro, sentito in qualche suo intervento. Ma torniamo a Gimme5. Gimme5 è un'app che permette di avvicinarsi con facilità al mondo del risparmio gestito, che significa mettere da parte delle somme di denaro investendole in dei fondi, che vengono poi gestiti dagli esperti di una società italiana che si chiama Acomea. La forza del prodotto è principalmente la sua semplicità, che è diventato chiaro in tutto questo tempo in cui sono stati i nostri partners, perché il fatto che funzioni tutto dall'app e prenda per mano l'utente, introducendolo al concetto di risparmio, anche iniziando con pochi euro senza vincoli, è ovviamente molto conveniente per l'utente. Quindi, come funziona? Voi inizialmente non dovete metterci niente, se passate tramite me avete 5 euro di ingresso che potete usare per provare il servizio. Per il resto, scegliete un fondo tra quelli disponibili, ce ne sono un sacco e tutti dotati di una scheda riassuntiva, e l'idea è quella di destinare ogni volta che si può una parte dei propri intruiti a risparmio, che viene quindi investito nel fondo selezionato. Soldi, che ovviamente potete disinvestire nel momento in cui dovesse servire liquidità. Di nuovo, tutto dall'app, non ci sono costi nascosti, la si collega al conto e quando scegliete voi, automaticamente si possono mettere da parte queste somme. Tutto il processo, insomma, è estremamente trasparente, tramite le loro pillole di informazioni che di tanto in tanto pubblicano per fare educazione finanziaria, loro sono i primi a dire che l'app non faccia miracoli e che i miracoli in questo settore non esistano. Si tratta di risparmiare, investire questo denaro, in modo che nel lungo periodo maturi degli interessi e non sia invece mangiato dall'inflazione, e via. Insomma, è un buon servizio se volete avvicinarmi a questo mondo. Peraltro, l'app è in crescita e conta ad oggi più di 500.000 utenti, fanno sapere in una recente intervista al Corriere che ho letto, e il 54% dei nuovi utenti arrivati nel 2021 appartiene alla fascia 1826, e so per certo che tra questi ci sono tantissimi di voi. Che è ottimo, perché risparmiare è un'abitudine che va sviluppata presto quando si hanno di fronte tanti anni per far maturare gli interessi degli investimenti. Quindi, codice Italy 5, potete avere 5 euro di bonus d'ingresso. L'app di Gimmy5 la trovate sia sullo store di Apple che su quello di Google. Benone, vi lascio al podcast e ancora grazie per essere qui. Prendetevi qualcosa da bere, mettetevi comodi, sarà interessante. State per assistere al Breaking Italy Podcast dal Teatro Franco Parenti, date un caloroso benvenuto ad Alessandro Masala. Grazie a tutti. Grazie per essere qui per la seconda puntata della seconda stagione del Breaking Italy Podcast. Apprezzo moltissimo la vostra presenza. Vi dico subito che io ho dormito tre ore, quindi non ho la minima idea di che da sto per fare, è peggio dell'altra volta. Si era pensato in realtà di mettere soltanto l'ospite, tanto lo so che siete qui soltanto per l'ospite, quindi potevano mettere un cartonato e ogni tanto far fin dai fani fare qualcosa. Nieto c'è? C'erano delle voci che dicevano che questo fite non l'avrebbe voluto bene, invece l'abbiamo costretto, quindi non lo preoccupate. Direi che posso iniziare ad annunciarlo, a fare finta, quindi sappiate chi sta per salire sul palco. Quindi, sul palco sta per salire un giornalista, un collega, nel senso che fa anche un podcast, non che siamo entrambi giornalisti, esperto di Stati Uniti, dice dietro del post, cos'altro posso dirvi? Un applauso a Francesco Costa. Bene, grazie, e tu? La grande, la grande. Anche tu dormi poco, no? Spontaneo questo inizio della nostra conversazione. So che anche tu dormi poco, quindi... Sì, infatti, non so se il mirto aiuta in questo caso. Sei già riduto? Il primo bicchiere forse sì. Ok, poi il secondo e il terzo. Poi abbiamo scoperto che... Prego. Io non bevo il mirto da tipo 15 anni. Ok, iniziamo da questo. 15 anni fa mi era piaciuto un sacco. Poi, in questi 15 anni nella mia vita... No, io sono diventato allergico a un sacco di cose nel frattempo. Non ho mai più ribevuto il mirto. Questa puntata potrebbe anche essere molto breve. Questo è... Dai, in piacere. Prego. Adesso le farò sceleggiate. No, esatto. Allora, da cosa iniziamo? Di cosa vuoi parlare? L'argomento di c'è? No, hai fatto un morning day? Sì. Ok. Come ogni mattina dal lunedì al verde. Questo vuol dire che anche io appunto molto sonno. Però, sì, questa è stata una delle cose più impegnative nella scelta di cominciare a fare questo podcast sul piano personale, naturalmente, non sul piano del giornale. Cioè, non è che è un podcast che ha una data di scadenza. Va avanti... Per sempre. Per sempre non so, ma non ha una data di scadenza e quindi l'impegno è stato significativo. Ok, per esperienza ti dico che è una pessima scelta. Sì, infatti tu ne sai qualcosa. E non finisce mai. Ed esce ogni giorno. Esatto, per sempre, in ogni caso. Beh, però guarda qua, no. Eh, esatto. Io ti ho portato qua, oltre ovviamente per la foto opportunity, per poter bere con te, e guarda tutto questo, è solo per me perché voglio la foto e per fare bene. Perché tu, in un certo senso, occupi uno spazio, tu e il post, quindi poi parliamo sia di te che del post, perché lui è un povero... Occupi uno spazio che in qualche modo si sabrappone al mio. Spesso le community sono simili, ovviamente parliamo di argomenti simili, però tu hai deciso di fare un podcast. Quindi sono curioso di sapere, siccome mi percepisco un po' come un pirata del mondo dell'informazione, non ho fatto delle scuole, non sono giornalista, non sono veramente... Sei iscritto all'ordine dei giornalisti? Io non sono iscritto all'ordine, se vuoi poi ne parliamo le tre. Parliamo le tre. No, in realtà per me è molto complicato diventare giornalista, perché ho bisogno di qualcuno che mi faccia diventare... sei qui per questa, ecco qui per questo. Beh no, ma questo dice molto di quanto sia una cronistica alla legge, la legge che stabilisce che tu per fare attività giornalistica debba essere iscritto all'ordine dei giornalisti, è una legge che credo del 56, se sbaglio l'anno mi tolgono il tesserino anche a me, e prevede che tu non possa fare attività giornalistica se tu non sei iscritto all'ordine, quando in realtà attività giornalistica sono un sacco di cose, tecnicamente qualsiasi lavoro ti porti a diffondere delle informazioni che aiutano le persone a capire qualcosa in più della realtà, che sia il loro quartiere o che siano le criptovalute, quella roba lì è attività giornalistica. E nel 2020, ma anche nel 2010, probabilmente non puoi pensare di regolarla con la legge del 56, per cui capisco che tu fai attività giornalistica oggettivamente, non so se questo ti offende, sei un giornalista, solo che non è una grande... cioè youtuber non è che siamo lì... Non può essere che ogni podcast inizi così... No, ma io lo dico perché sono espressioni di una categoria di quel tipo, cioè ci sono i serial killer, i pedofili, i politici, i giornalisti, però siamo in quel campionato lì, i youtuber sono secondo me ancora un po' meglio come reputazione. Che bugiardo, perché stai mettendo il 56%? È una buzia, non lo pensi? No, come reputazione, come reputazione pubblica, i giornalisti noi siamo... Però pensa ad esempio a parire in televisione, a parire da qualche parte e ti scrivono nel sottopancia youtuber. Questo è vero. È dura, eh? Cioè la gente che non legge fa questo punto, non c'è niente, non ha la minima idea, e poi dici, ma per me l'acqua bagna, ah ah... Questo è vero. Vabbè viene immediatamente etichettato come il simbolo di una generazione, di una categoria. Assolutamente, sì, sì, sì. Ogni cosa che tu fai, si ripropote su tutti quanti, che è un buon problema degli youtuber e anche dei giornalisti, perché un giornalista diventa... che scazza, diciamo. Ovvio, le mail che ricevi quando qualcuno non è d'accordo con qualcosa che hai scritto ed è qualcosa che è quotidiana, ed è legittima e normale, si rivolgono spesso a me, dandomi del voi. Perché voi giornalai, voi giornalisti, e infatti una delle prime cose che dico è ma quanti siamo qui? Cioè parla con me. Cioè non chiedermi conto di quello che fanno i miei colleghi, anche perché poi, ovviamente, siamo tutti diversi e i giornalisti non sono un unico blocco, e anzi passano la gran parte della giornata a parlarsi male l'uno dell'altro. Uh, questo mi interessa un sacco. Lo faccio anche dentro Morning. Ogni tanto capita che faccia una puntata un po' più incazzata, diciamo, con colleghi o collega, con i giornali, e il mio direttore mi dice ok, adesso fai due o tre settimane senza, diciamo, fare incavolare nessuno, perché poi non voglio nemmeno che quel podcast lì passi per una sorta di polizia dei giornali. Un podcast in cui facciamo le pulce al lavoro degli altri. Un po' perché, secondo me, sarebbe estremamente noioso. Magari ti dà soddisfazione una o due volte, ma poi non ti diverti tanto. Non è utile, invece noi vogliamo che che Morning sia utile. Dico noi, non perché lo dammo a tutti noi al post. E poi perché, in realtà, i giornali sono ancora pieni di un sacco di cose interessanti, istruttive, che ti fanno capire come funziona il Morning. Per noi, in post, un po' c'è là, questo posizionamento. Non è vero? Che c'è? Di fare le pulce agli altri, dire non siete bravi. Sì, ma sai, il punto, secondo me, almeno il tentativo è di farlo non con l'approccio non siete bravi, ma siccome il nostro mestiere è provare a informare le persone che ci leggono e quindi a dare delle informazioni utili, se su un giornale esce una notizia falsa o imprecisa, parte del nostro mestiere, se quella notizia è molto letta, se la andiamo a cercare nei bassi fondi di internet, ma se una notizia molto letta è dire questa cosa qui che forse avete letto su la più grande agenzia di stampa italiana o il più grande quotidiano italiano, non è vera, ma non lo facciamo per dire che sono scarsi, lo facciamo per fare un servizio alle persone che ci leggono. Chiaramente nella redazione del giornale in questione non tutti la prendono bene per usare un europeo. dietro le quinte quando critichi un altro giornale o un altro giornalista, perché tu non dici mai quel giornalista, dici questo pezzo, È capitato molto raramente, dentro Morning è capitato molto raramente che mi hai fatto proprio una roba sul lavoro di qualcuno, è capitato, una persona ha fatto tipo un rant di 48 storie su Instagram per prendersi da con me, però onestamente non è per fare molto, non ci sono fatta manca vederle tutte, perché ero 48, era una roba veramente lunga. Ci sono anche un sacco di colleghi e di colleghe che ringraziano per se gli hai segnalato un errore o qualcosa, come nel senso non è che siano tutti giornalisti dei mostri a tre teste, qualcuno che ogni tanto se la prende capita, questa cosa che noi cerchiamo di fare con Morning la facciamo poi in realtà col post da quando è nato e ci sono sia persone che dentro le redazioni dei giornali magari tradizionali cosiddetti sono complici di quello che cerca di fare il post e cioè riconoscono il fatto che poi l'informazione ha dei problemi, l'informazione in Italia ha dei problemi, se dico questa cosa in un teatro pieno di persone che non fanno i giornalisti è un'enorme banalità, ma se la dici in un contesto dei giornalisti è però tu vuoi criticare il lavoro degli altri, è chiaro che l'informazione ha dei problemi, c'è anche chi si la prende un po' male, qualcuno ogni tanto fa una telefonata, una sfuriata, un po' di fuoco o un tweet un po' antipatico o se c'è un lettore che ci critica mettono il cuore al tweet un po' passivo-aggressivo cronista del Corriere che mette il cuore a fragolina 82 vabbè cioè ipotizzando che qui fossimo di fronte a una platea di giornalisti magari tu non lo sai magari ci sono ma io ho tanti amici giornalisti perfetto anche io questo è un po' è un po' un problema nel senso è utile ma è anche un problema poi ci arriviamo ma se qua fossimo a un convegno e tu dicessi questa cosa cioè il giornalismo italiano ha questi problemi ne puoi dire quelli che vuoi nel senso non voglio essere io cosa succederebbe? Allora se il contesto è un contesto professionale e quindi un convegno diciamo tra giornalisti se ne parla di questi problemi secondo me non si non si identificano tutti perché tendiamo a guardare con più attenzione ai problemi che sono evidentemente causati dalla crisi industriale del giornalismo questa professione attraversa due crisi che sono due crisi diverse legate ma diverse una è la crisi industriale e cioè facciamo molta più fatica di prima a fare soldi a incassare dal nostro lavoro vendiamo meno copie nel caso dei giornali cartacei ma anche la pubblicità online è pagocitata da Google e Facebook per cui per mettere insieme delle cifre dignitose devi fare sempre più pagine viste e quello è il motivo per cui in estate vedete le gallerie fotografiche delle VIP in costume da bagno il cane che balla al ritmo di musica e ci cliccate voi e quindi noi giornalisti le mettiamo e questa crisi industriale fa sì che tu hai meno soldi e devi provare a fare le stesse cose di prima se non più cose di prima e quindi la qualità del lavoro evidentemente diminuisce poi c'è una crisi professionale che è legata anche alla crisi industriale ma è anche indipendente riguarda anche le testate che non hanno tanti problemi di soldi riguarda dei vizi nel modo in cui facciamo questo mestiere l'allarmismo il sensacionalismo la superficialità non riguarda tutti non riguarda tutti i giornali dello stesso modo però riguarda la categoria è un fenomeno diciamo di sistema che è la cosa più evidente diciamo che è quella che viene più criticata dal pubblico il pressapochismo la disattenzione ed è una di quelle cose che tra l'altro ad un certo punto annulla o quasi la differenza tra la stampa istituzionale la stampa affidabile i giornalisti col tesserino e qualunque altra persona scriva qualsiasi cosa su internet la lotta alle cosiddette fake news in Italia è più complicata di quanto sia altrove detto che è complicato ovunque perché noi abbiamo le fake news sulla stampa affidabile sulla stampa quella di cui tu dovresti fidarti ripeto non tutta non tutti non sempre ma ci sono più di quanto accada in Francia più di quanto accada in Regno Unito più di quanto accada negli Stati Uniti e quindi è complicato capire poi di chi ti puoi fidare ecco e perché questo messaggio non passa secondo te perché non arriva alle grosse redazioni perché c'è una è una categoria molto corporativa c'è una certa difficoltà nel riconoscere discutere i propri errori perché adesso io devo parlare con te senza facendo finta che non vedo lui che ti parla perché stavamo dicendo mi dicono che abbiamo un problema tecnico sull'audio grazie l'applauso sarebbe super utile perché non so cosa deve succedere e quindi non hanno sentito niente di quella che stiamo dicendo qui ah il mio? cioè non mi sentivate? non ne avete detto niente? dovrete continuare a applaudire questo sarà il momento in cui nel podcast fanno avanti 15 secondi avanti 15 secondi avanti 15 secondi ok ok wow altri 5 minuti di temporeggio mi hanno detto no siamo una categoria super corporativa facciamo molta fatica a parlare dei nostri errori dei nostri limiti viviamo tendiamo a vivere gli errori o meglio le critiche come delle critiche molto personali e e credo che in questo non aiuti nemmeno il fatto che poi i giornalisti al di là dei loro limiti sono molto poi presi di nira non so dalla politica per ragioni che non hanno poi nemmeno sempre a che fare con la qualità del nostro lavoro ma hanno a che fare col fatto che il nostro lavoro è raccontare delle cose sui politici che non sempre i politici vogliono che vengano raccontate o lo stesso vale per le aziende lo stesso vale per chiunque abbia interesse che una cosa venga fuori su un giornale raccontata in un certo modo e non in un altro e quindi abbiamo già tutti questi che ci danno contro perché hanno un secondo fine persino tu che fai il giornalista come me mi devi criticare per questo errore che ho fatto evidentemente in buona fede oppure ho fatto perché dobbiamo comunque portare a casa lo stipendio eccetera eccetera ok non so se posso parlare in realtà quindi se vuoi continuare nessuno mi fa cenni sì vabbè non so in merito a questo tu mi immagino che quando hai iniziato la carriera giornalistica noi siamo coetane abbiamo la stessa età 28 sì esatto 28 non pensassi di fare un podcast cioè dubito anche perché ai tempi ai tempi il podcast non c'era quindi 28 assolutamente cari bambini peraltro tu visto che ci siamo al post come ci sei arrivato? allora io ci sono arrivato io avevo un blog che avevo aperto nel 2003 all'epoca davvero cari bambini non c'erano manco i social media c'erano solo i blog ed erano la prima forma di produzione di contenuti spontanea e indipendente online senza che fosse necessario costruirsi un sito scrivere del codice HTML avevo un blog io volevo fare il giornalista all'epoca studiato all'università ci mettevo dentro link ad articoli che mi piacevano ogni tanto scrivo io delle robe abbastanza indecenti erano su una piattaforma free che poi ha chiuso e quando hanno chiuso mi hanno mandato una mail per dirmi vuoi salvare l'archivio con tutti i tuoi posti? ho detto no non voglio salvare nulla cancellate tutto questo da internet però nel micromondo dei blog italiani il mio blog aveva un suo ancora più microscopico seguito di qualche centinaia di persone era un po' una bolla in cui ci si commentava a vicenda ci si parlava a vicenda e in quel momento lì in quel contesto lì io capitavo che scrisse un paio di mail a Luca Sofri che all'epoca aveva già allora il suo blog Wittgenstein e lui mi rispose dicendomi grazie Luca non era che fosse una grande conversazione però poi in realtà si sviluppò un rapporto di stima reciproca per quanto lui fosse molto più grande più esperto di me dopo aver mandato 7000 curriculum la storia è anche più avventurosa di così comunque ottengo il mio primo contratto all'unità come moderatore dei commenti del sito quindi non un incarico diciamo di particolare prestigio oggi va così ma lo fai con tutti gli ospiti che a un certo punto è una di quegli show per cui mi fai delle domande imbarazzanti lo fanno quando pensano che l'ospite non sia molto interessante allora succede una qualche cosa no era il 2008 io vengo preso a fare il moderatore dei commenti del sito dell'unità aveva appena vinto le elezioni berlusconi cioè immaginate l'umore medio del lettore dell'unità ok io tornavo a casa come se mi sono rubato nelle orecchie e comunque da un contratto precario a un altro contratto precario nel frattempo Luca mi racconta che stava provando a fare un giornale online a Milano e mi chiede se avevo voglia di provare a far parte di questa prima redazione io all'epoca non avevo granché che mi dispiacesse lasciare a Roma appunto dei contratti a progetto da due soldi senza grandi prospettive per cui dico sì dai proviamo durerà sei mesi un anno a quello era il tuo pensiero tanto è una roba online ma è una cosa online che nasce da zero non è che dicevo durerà sei mesi un anno dicevo boh chi lo sa poi in tutto questo io vivevo a Roma all'epoca e i miei amici romani quando io gli dissi vado a vivere a Milano mi guardarono come se io gli avessi detto tutta la mia famiglia è morta ieri in un incidente in visita da un... ma veramente ma poverino per cui ho detto anche non è che vado in Nuova Zelanda se fa proprio schifo me ne torno a Roma però l'idea era vediamo che succede e in realtà poi sono ancora qui da 11 anni ok e il posto è rimasto ecco il posto è rimasto per adesso per adesso no certo grazie no scherzo scherzo cosa fai tu materialmente al posto cioè è un po' difficile per me immaginare le mie menzioni sono molto cambiate negli ultimi di fatto 8-9 mesi per i primi 10 anni e mezzo di vita del posto fino a settembre scorto fino a un anno fa io facevo il giornalista nel senso del redattore come tutte le altre persone del posto il caporedattore nel senso che anche un po' da collo di bottiglia aspetta spieghiamola meglio allora c'è una stanza c'è una stanza ci sono delle persone con della gente seduta con dei computer che comunicano parlandosi in chat benché siano una di fronte all'altra ok ogni tanto qualcuno ci chiede ma anche i amici mi fai fare un giro in redazione al posto e loro immaginano di vedere o una redazione tipo il New York Times fogli che volano oppure una roba tipo start up californiana e tu invece entri e vedi tutte queste persone con la testa china sul computer e ogni tanto ridono contemporaneamente per cui nel silenzio per cui tu capisci che sta avvenendo qualcosa ma non lì davanti a te ed è un gruppo ovviamente piccolo all'inizio eravamo in cinque adesso siamo trentaquattro però comunque siete trentaquattro adesso sì wow ok facciamo un applauso al posto grazie stiamo 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 chiamando gli applausi tipo a Jeb Bush please clap please clap ok no e quindi il lavoro delle persone va coordinato nel senso che ci sono c'è chi scrive ma c'è chi abbia in testa che cosa deve andare online con la massima priorità che cosa deve andare online tra due ore cosa mettiamo in apertura che cosa deve essere pronto per il weekend io avevo un po' quel ruolo lì seguendo diciamo uno spartito che era quello dato mi da Luca il direttore la linea editoriale queste cose ci interessano queste qui no le cose cerchiamo di farle in questo modo e non in quest'altro dopo un po' uno impara e quindi anche senza che Luca ti dica sì o no su ogni cosa sei in grado in autonomia di guidare la macchina e quindi c'è una notizia da trattare c'è una storia da seguire diamola alla collega che è più esperta di quella vicenda lì c'è un collega che fa una proposta e decido di dire sì o no poi quando l'articolo è pronto ero io la persona che lo rileggeva vedeva se era tutto ok faceva il titolo lo mettevo in pagina quasi tutto quello che veniva pubblicato sul post passava da me da me e poi insomma anche da qualcun altro che mi dava una mano ovviamente e quindi facevo delle menzioni da giornalista da caporedattore e anche da vice direttore perché poi a un certo punto ho cominciato a condividere il lavoro di pensiero di scelte diciamo più strategiche sulla linea editoriale con Luca Sofri da un anno a questa parte mi sono staccato un po' dalla parte diciamo più di macchina di questo lavoro che su un giornale online è anche un lavoro piuttosto frenetico è un tipo di lavoro per cui ti capita di dire è un'ora che devo andare in bagno e non sono ancora riuscito ad alzarmi dal computer perché se io vado in bagno per 10 minuti in 15 minuti il post è fermo perché serve che sia io quello che poi alla fine clicca sul tasto pubblica è un lavoro che mi ha fatto imparare tantissime cose che non sarei mai in grado per esempio di fare Morning adesso se non avessi fatto 10 anni di questo tipo di lavoro di desk questo è il modo con cui nel gergo si chiama questo tipo di lavoro qui proprio per la scelta dei contenuti che tratti su Morning per la sì ma anche per la capacità che adesso un po' di avere comunque familiari storie che altrimenti non avrei mai seguito perché se tutte le cose che escono sul posto le ho lette non sarò l'esperto di tutto però un pochino di tutte le cose le so dai nomi dei ministri dei paesi europei a che cose sono gli euro bond a chi ha vinto le world series di baseball a chi ha vinto gli Emmy sto già entrando in una zona che io invece non ho idea ma sì sono un sacco di informazioni totalmente inutili diciamo rispetto alla mia vita e alla mia carriera però alla fine in realtà inutili non sono perché quando fai come faccio adesso una rassegna stampa non c'è niente di pronto io mi alzo la mattina e non ho idea di cosa dovrò dire dopo un'ora e mezza mi aiuta molto a orientarmi mi aiuta a saper leggere i giornali un po' in diagonale e anche leggendo un pezzo a provare a capire qual è il meccanismo dentro quella redazione che li ha portati a scrivere quell'articolo in quel modo a titolare in quel modo e poi raccontarlo alle persone che ascoltano Morning da appunto un anno a questa parte mi sono spostato un po' più sulla produzione di contenuti per esempio Morning e sto coordinando un po' questa ancora embrionale offerta di podcast del post che però si andrà arricchendo nei prossimi mesi ok quindi questo salto da giornalista a youtuber come ti fa sentire? tanto alla fine si fa sempre youtuber no un po' più youtuber però content creator se ogni tanto qualcuno mi scrive che sono un influencer perché ho un po' di follower su Instagram e quindi questo mi rende automaticamente un influencer no io devo dire non ci vedo niente di particolarmente offensivo anzi trovo che queste etichette non servono davvero a molto non ti fanno capire perché appunto tu non sei un giornalista io sì in realtà io e te facciamo ogni giorno una roba per cui per 20 minuti parliamo delle notizie facciamo letteralmente la stessa cosa poi qualcuno piacerà di più un podcast un video certamente non diciamo le stesse cose però la professione è quella lì e quindi se io sono un influencer perché lo faccio su Instagram se sei youtuber perché lo fai su YouTube io sono giornalista tu no mi sembrano veramente discorsi che non portano da nessuna parte io questa cosa la spiego spesso io poi non ho finito di dirlo io non posso diventare giornalista in realtà in Italia proprio per il modello di business che ha Breaking Italy perché correggimi se sbaglio ti prego correggimi un giornalista non può fare delle pubblicità dirette corretto? esatto quindi per me è finita sulla carta è finita per me sulla carta ah perché dici che succede? a voglia tipo chi lo fa? allora diciamo così c'è un problema delle leggi partiamo da questa premessa tu puoi scrivere quello che vuoi in una norma ma se poi non c'è qualcuno che è deputato a far rispettare quella norma ok tipo l'ordine? sì qualcuno che faccia dei controlli su queste robe qui quella norma non dico come se non ci fosse ma quasi il suo rispetto è affidato al buonsenso e all'onestà delle persone poi ci sono anche delle zone molto grigie in cui l'ordine se arriva arriva con qualche anno di ritardo ci sono giornalisti giornaliste che io ho visto sui social benché hanno nella loro bio di Instagram giornalista advertising quella roba lì non si può proprio fare cioè la legge prevede che i giornalisti non possono prestare la voce la faccia per prodotti pubblicitari a meno che non siano tipo io posso fare pubblicità al podcast del post cioè al mio giornale al giornale per cui lavoro quello lo puoi fare quello lo posso fare non possono essere aziende esterne al gruppo editoriale diciamo e poi ci sono tutte quelle famose zone grigie per cui io non posso fare pubblicità a un famoso marchio di moda però quel famoso marchio di moda puoi fare pubblicità sul tuo giornale primo e quindi mi dà dei soldi alla mia azienda per cui la mia azienda ha l'interesse che io poi non scriva che la sfilata faceva schifo oppure oggi si fa meno perché ci sono meno soldi ma prima si faceva il famoso marchio di moda prima della sfilata mi invita a una presentazione un evento stampa in cui mi fanno incontrare lo stilista e tutto quanto quattro giorni in un villaggio turistico bellissimo in cui posso portare la mia famiglia una sorta di vacanza pagata e poi scriverò questo articolo anche se non sono una persona disonesta evidentemente quella cosa lì avrà un peso con l'economia questa cosa che è capitata tantissimo banche assicurazioni per anni hanno investito un sacco di soldi nel portare a spasso i giornalisti di economia dei quotidiani italiani ecco e tutto quello poi ha delle ricadute non so se sto facendo bene a raccontare tutte queste cose troverò le ruote delle macchine tagliate diciamo com'era il mirto? il mirto era molto buono e sono ancora vivo fin qui non so se è passato il tempo quello lì dello shock anafilato però no va bene sto bene ok no nel senso se ne vuoi altro puoi sempre chiedere non c'è la mirto nella borraccia in tuo contro nella borraccia non c'è il mirto ok diciamolo anche perché tu hai minazzati brutto brutto c'è acqua dentro la borraccia esatto o gin perché sto cercando in realtà degli sponsor quindi sparo tutti gli alcolici prima o poi qualcuno dei soldi potrebbe esserci del gin visto che parlavamo di questo c'è una domanda tu sai che il pubblico il pubblico fa delle domande ne ho una di Filippo Guiducci che guarda caso la trovo qua che dice come leggo da più parti e spesso anche sulla newsletter Charlie del Post chi la scrive quella la scrive Luca Soffri Luca Soffri me l'immaginavo non da solo però però insomma lui è il responsabile si sta andando sempre più verso un modello in cui i giornalisti fanno più storie a sé intraprendendo molti progetti personali e quindi più distaccati dalle redini dalle redazioni pensi sia un modello che si affermerà o è qualcosa che diventa parallelo ma che comunque fa in modo che le redazioni mantengono la loro importanza allora il modello si è già affermato poi dobbiamo decidere che cosa vuol dire affermato che rimpiazza le redazioni e i giornali no quello non succederà mai ok che si afferma nel senso che diventa un'opportunità di carriera e un'opportunità lavorativa praticabile accessibile per le persone che fanno questo mestiere lo è già lo diventerà secondo me sempre di più perché per tanti motivi innanzitutto perché tutta una serie di barriere di tecnologiche che prima impedivano un giornalista di raggiungere da solo un pubblico oggi non esistono più da youtube ai social ai newsletter ai podcast nella tua stanza con un computer che costa mille euro puoi fare un miliardo di cose che dieci anni fa erano impossibili e raggiungere un pubblico anche molto grande e poi perché a fronte delle difficoltà economiche che hanno i giornali e quindi anche di offrire magari degli stipendi particolarmente alti se tu hai una community grande abbastanza col crowdfunding vendendo dei libri vendendo delle cose puoi guadagnare più di quanto ti offra magari un grande giornale italiano come stipendio il punto è che non è una strada facile cioè è anche quella lì una roba molto difficile campare della tua community e basta diciamo tu stai meglio di me io non ho mai voluto lasciare la dimensione di redazione benché poi facessi per conto mio magari da costa a costa perché avessi una community grande abbastanza per cui potessi pensarci a fare il salto e mettermi da solo perché la dimensione del lavoro di redazione comunque a parte che aggiunge molto alla qualità della mia vita nel senso che se no finisci a lavorare da solo quasi a meno che non ti fai una tua azienda un tuo giornale un tuo progetto editoriale lavorare in gruppo ti dà più idee ti dà più feedback ti fa lavorare meglio ti dà più risorse anche perché io non sono esperto di qualsiasi cosa per cui se devo mettere un grafico in un pezzo io posso farlo ma se mi rivolgo al mio collega esperto di dati mi sa dare sicuramente una mano e si lavora meglio secondo me in gruppo detto questo a fronte di giornali che fanno fatica ad assumere che licenziano più di quanto assumono che quando assumono pagano poco è molto allettante la strada di mi faccio un mio progetto mi apro un canale YouTube mi apro una newsletter e poi magari col crowdfunding in qualche modo cerco di mettere insieme un reddito e farlo diventare un lavoro perché io mi ricordo che tu avevi fatto un altro podcast da costa a costa e avevi proprio parlato magari lo diciamo per chi non l'avesse ascoltato sostanzialmente eri tu che andavi in giro negli Stati Uniti prima delle elezioni se non sbaglio perché era qualche anno fa nato nel 2015 poi ho fatto le elezioni del 2016 e poi il gioco del 2020 e mi ricordo che negli ultimi parti avevi proprio parlato con trasparenza di quanto avessi guadagnato facendo quello ed erano dei guadagni abbastanza buoni nel senso da permetterti di rifinanziare un altro viaggio che poi vista la situazione non hai fatto quella roba lì cioè il fatto di avere una voce abbastanza forte personalmente e di poterti autofinanziare un reportage che invece un giornale non riesce a finanziarti non ti dà comunque cioè non ti metti in una posizione diversa rispetto ai tuoi colleghi perché questa cosa io la vedo ad esempio in televisione perché io quello che vedo da esterno è che ci sono due tipi di giornalisti quelli che vanno in tv quelli che non vanno in tv quelli che vanno in tv li conoscono tutti sono famosi guadagnano anche molto meglio degli altri in generale hanno una voce molto forte perché la televisione gliela dà perché in Italia la televisione dà questa cosa gli altri magari fanno un lavoro altrettanto buono o migliore non li conosce nessuno questa cosa cioè non pensi che diventi la nuova televisione il fatto di poter dire io vado lì e ci vado da solo allora potenzialmente o forse senza potenzialmente forse sta già succedendo nel senso che per esempio io appunto sono potuto andare negli Stati Uniti più volte pagandomi quei viaggi e quel lavoro con le donazioni delle persone che leggevano e ascoltavano da costa a costa immestendo una cifra su quel lavoro lì che il posto in quel momento non avrebbe potuto investire anche perché su quel tipo di lavoro mio perché il posto è un giornale che deve coprire un miliardo di cose non manda in quel momento lì per quanto eravamo grandi all'epoca un giornalista per cinque volte negli Stati Uniti cioè con tutte le parti del mondo in cui può essere interessante eventualmente mandare qualcuno a raccontare dei posti che poi sono anche molto meno illuminati dell'America cioè se il posto vuole mandare qualcuno due settimane in giro forse ha più senso che lo mandi in Libia per fare un esempio piuttosto che negli Stati Uniti dove appunto pochi posti sono più raccontati di quello e io però avevo la libertà in quel caso di poter dire lo faccio e quel contatto con la community poi ovviamente diventa anche una cosa che ti fa se scrivi un libro ti fa vendere più libri se vuoi andare da un giornale a un altro o se vuoi passare dal giornale a provare ad andare a fare una cosa alla radio o alla tv il fatto che tu arrivi con il portato di una community numerosa che ti segue ti dà più chance su questo non c'è dubbio credo che sia in una certa misura inevitabile in una certa misura forse persino sano questa è una professione in cui l'accesso è straordinariamente poco trasparente chi vuol fare il giornalista o la giornalista in Italia non trova degli annunci sul giornale cercasi giornalista non ci sono posizioni aperte su LinkedIn per cui ah vedi alla gazzetta dello sport cercano qualcuno che si occupi di basket è tutto straordinariamente opaco è tutto molto relazionale se non conosci qualcuno è difficile anche solo provare a dimostrare che sei bravo a farti dare una chance la possibilità di produrre contenuti in autonomia e di costruirsi una community permette a chi vuol fare questo mestiere oggi di farsi notare col proprio lavoro e quindi è molto più facile che a quel punto dal giornale istituzionale che non avrebbe mai aperto il mio curriculum si accorgono che io faccio queste cose e dicono però quella persona è interessante magari coinvolgiamola magari chiedemogli un pezzo magari chissà a un certo punto assumiamola ma oggi è diventata molto più promettente quella strada lì per entrare in un giornale fare dei contenuti fatti notare per quello che fai piuttosto che mandare dei curriculum che spesso non vengono manco aperti perché non c'è nessuno che abbia il compito di aprire i curriculum che arrivano nella redazione di inserirsi nome di grandi giornali italiani ma tu pensi che sia un problema questo il fatto che ci sia così poca trasparenza e non ci siano le posizioni aperte di provenità penso che sia un problema in parte questo è anche sì causato dalla crisi industriale del settore non ci sono posizioni aperte perché letteralmente non ci sono le posizioni aperte in molti casi è perché quando ci sono delle posizioni aperte quando si libera un post in redazione al Corriere della Sera per fare un esempio giornali che hanno in questo momento per esempio il Corriere in stato di crisi stato di crisi vuol dire non puoi assumere altre persone quando finirà lo stato di crisi oppure fanno degli accordi per cui mandi in pensione due persone e due pensionati prendi un giornalista nuovo il Corriere ha una lunghissima fila di precari che hanno collaborato col Corriere a volte anche per 15-16 anni con collaborazioni che a volte somigliano a dei lavori full time cioè non è che scrivo un pezzo alla settimana ogni giorno conta su di me ti scrivo una o due cose e quelle persone hanno di fatto la priorità tralasciando il fatto che sia giusto o meno però effettivamente hanno un credito in qualche modo e quindi se il Corriere cerca qualcuno non mette nemmeno l'annuncio perché ha una fila di persone e poi c'è tutta la dimensione diciamo relazionale romana se vogliamo soprattutto romana in cui si si giravoce che alla stampa cercano uno ma allora aspetta ti presento quell'amico mio che fa la radio una cosa molto bella che parla di quello ma ti somiglia ma te lo faccio conoscere e per cui le assunzioni e il modo di entrare ai giornali prendono altre vie questa cosa si sta un po' adesso smontando nel senso che lo vediamo anche abbastanza io lo vedo di persone che cominciano a fare una newsletter che cominciano a fare un progetto autonomo sui social e poi magari cominciano a fare anche un pezzo ogni tanto per il giornale di carta che si è accorto del fatto che esistono che sono brave che sono bravi e quindi cercano di tirarli dentro ma voi al post lo fate? aprite le posizioni su LinkedIn? noi al post non apriamo abbiamo aperto un po' di posizioni in qualche anno fa e quello che è successo è che appunto ricevi 800-900 candidature che poi se vuoi prendere sul serio devi leggerle tutte e appunto se ne abbiamo fatto un annuncio le dovete fare mettiamo che di queste 900 ce ne sono 80-100 interessanti devi fare 80-100 colloqui e ogni colloquio quanto durerà? 20 minuti? devi prendere qualcuno che faccia quello e basta per un tot di mesi poi magari i migliori 15 li rivedi per un secondo colloquio diventa un vero enorme lavoro quindi noi adesso quando vogliamo reclutare qualcuno o andiamo a fare delle proposte noi a qualcuno di cui conosciamo il lavoro per cui appunto quindi sempre tramite le raccomandazioni? no 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 qualcuno che si è fatto notare faccio un esempio molto concreto durante la prima ondata della pandemia che qui in Lombardia è stata come sapete particolarmente intensa dico come sapete non tanto a voi che siete qui ma alle persone che poi magari ascoltano il podcast si è fatto notare un cronista bravissimo dell'Eco di Bergamo che si chiama Iseghen Vernizi che dalla posizione di un giornale locale quindi non sulla stampa nazionale aveva la capacità di mettere in fila i dati in un modo magnifico di spiegarti quello che stava succedendo in modo super chiaro era evidentemente una persona molto brava gli abbiamo fatto un'offerta di lavoro per cui l'abbiamo scoperto che lui esisteva grazie al lavoro che stava facendo e abbiamo pensato proviamo a portare questa persona al post quello è un canale un altro canale da qualche tempo il post fa organizza corsi di giornalismo workshop alcuni a pagamento altri addirittura completamente gratuiti come quelli che facciamo a Peccioli per cui sono pagati da una fondazione culturale del comune di Peccioli in Toscana quello lo fate per fare scouting per noi è un modo sia per raccontare delle cose per insegnare delle cose che siano utili poi naturalmente al corso scopriamo se c'è qualcuno più bravo degli altri più brava degli altri ed è capitato che gli dicessimo ti va di fare uno stage per cominciare e poi magari diventi parte della redazione ok ho capito e invece come si diventa giornalista esperto di qualcosa nel senso sto cercando di imparare prima ad un certo punto cerco di copiare qual è stato il passaggio che ti ha fatto diventare da persona che immagino si interessa di Stati Uniti ti piacerà il mondo a livello questo mondo a livello personale a esperto di Stati Uniti per cui la gente ti dice vieni qua a parlarne sì c'è in tutto questo una grande sindrome dell'impostore che bisogna sempre tenere presente nel senso che poi nel momento in cui tu cominci a essere presentato come l'esperto di Stati Uniti è quel momento in cui oddio se mi chiedono una cosa a cui non so la risposta e se sbaglio l'anno la percentuale per cui la risposta alla tua domanda è semplice al stesso tempo difficile ed è studiando un sacco se quella cosa la chiave è il vero segreto non è tanto studiare è che secondo me non puoi diventare veramente esperto di una cosa che non ti piaccia tantissimo perché se no fai molto fatica e vedi tutto il tuo processo di studio di raccolta di informazioni come una roba che devi fare come una cosa che magari a volte fai mal volentieri se a te una cosa piace molto interessa molto lo farai semplicemente per tuo interesse quindi quando a volte la sera ti metti sul divano e vuoi leggerti un giornale prendi una rivista e ti leggi una cosa che ti fa conoscere delle informazioni che poi ti serviranno sul lavoro la chiave è studiare essere curiosi studiare non pensare mai che hai imparato tutto quello che puoi imparare di qualcosa nel caso degli Stati Uniti questa tentazione non può esistere perché è un posto così grande che ha una storia così variegata e frastagliata che cambia così in fretta per cui a me mi capita che delle persone mi scrivano per chiedermi ma cosa ne pensi delle parole del senatore X e loro le hanno viste io no quindi aspetta andiamo a vedere cosa ha detto il senatore X e poi diamo una risposta il più possibile intelligente tenere al passo tenersi aggiornati ma non per dovere perché ti piace un sacco quella cosa lì ok e perché ti piace un sacco quella cosa lì? bella domanda mi piace un sacco quella cosa lì perché in una certa misura perché come quasi tutti noi ma direi tutti poi la differenza è chi ne è più o meno consapevole la nostra cultura è imbevuta dell'egemonia culturale americana che ci piaccia o no possiamo anche pensare che sia una cosa terribile e negativa il fatto sta che c'è e nessuno ne è immune e la nostra sinistra anti-americana per dire che c'è per quanto diciamo piccola ha dei riferimenti culturali che spesso sono quelli dell'estrema sinistra americana quando l'anno scorso viene ucciso George Floyd e cominciano le proteste di massa negli Stati Uniti nel giro di due o tre settimane vediamo a Milano le proteste contro il razzismo con gli slogan Black Lives Matter non è che il razzismo in Italia non c'era o ce l'hanno dovuto dire gli americani e abbiamo fatto altre proteste contro il razzismo ma in quel caso erano evidentemente figli di quello che sta avvenendo in America gli stessi slogan insomma c'è questa egemonia che esiste i film il grande romanzo americano la musica per cui io sentivo di essere attratto non tanto dagli Stati Uniti ma dal desiderio di capire quel posto lì perché pensavo che potesse dire qualcosa a me anche sul posto in cui vivo poi il caso ha voluto ci sono anche le cose personali e casuali il caso ha voluto che io cominciassi a fare effettivamente il giornalista a novembre del 2008 è una delle primissime cose che mi viene detto di fare in redazione all'unità ma proprio tipo al quinto giorno la notte delle elezioni di Obama vai in quel locale di Roma un roadhouse in stazione Termini non un posto particolarmente posh in cui gli americani seguiranno lo scrutinio e saranno lì tutta la notte gli americani a Roma vai lì passa la notte con loro e poi la mattina fai un pezzo racconta e quindi mi trovo alla prima uscita da giornalista della vita ho realizzato il mio sogno sono un giornalista vado in questo posto sono circondato da americani che assistono a un evento storico la prima volta che una persona afroamericana diventa presidente e si abbracciano e sono commossi e assisto alla storia che poi devo raccontare su un giornale che come faceva a non essere comprato a vita dagli americani e poi l'America ci ha dato cioè non si può ignorare io ho fatto la newsletter da costa a costa nel 2015 a giugno pensando che diventava un progetto soprattutto per me perché io imparassi qualcosa su come fare le newsletter su come usare le newsletter un mese dopo si candida Donald Trump alle elezioni e quella campagna elettorale diventa la campagna elettorale più assurda di sempre come fai a dire non mi interessa l'America nel momento in cui uno come Trump arriva si candida prende voti diventa presidente però quella è la politica americana cioè ad avvicinarti invece è stata la cultura americana sì ma tu non puoi capire la politica se segui solo la politica cioè se tu vuoi capire perché gli americani a un certo punto gli americani un pezzo degli americani votando Trump non puoi andare a guardare soltanto i flussi elettorali devi andare a vedere che prodotti culturali consumano le persone nei posti in cui Trump prende più voti che tipo di mentalità hanno che tipo di storia hanno l'economia di questi posti come è fatta la politica spesso e quello che vediamo nella politica è il risultato finale di una serie di cose che non hanno a che fare con la politica che hanno a che fare con l'economia con i consumi delle persone con che cosa si studiano nelle università con come sono fatti questi posti anche sul piano geografico e quindi in America ci sono 320 milioni di abitanti in un posto che è grande più della Cina che ne contiene un miliardo e mezzo soltanto a New York City ci sono più abitanti che in 40 dei 50 stati americani se tu vuoi sapere perché hanno votato Trump un ampezzo grosso della risposta è andare a vedere dove vivono queste persone il fatto che vivono lontanissime tra loro la cultura di questo posto è generata anche dalla dimensione geografica di questo paese e quindi tu per capire la politica devi immergerti nella vita di queste persone e questa cosa secondo me è straordinariamente interessante e vale per qualsiasi altro paese del mondo però per l'America un po' di più perché secondo me ha un'influenza sulle nostre vite superiore ci sono degli elementi è difficile gli elementi culturali degli Stati Uniti perché poi appunto come dici gli Stati Uniti sono grandi diversi però come li percepiamo noi ci sono degli elementi che tu trovi positivi che dovremmo avere noi e quali dovremmo aspirare questa è una domanda un po' classica e invece altri che trovi meno interessanti ti faccio questa domanda faccio subito un'altra domanda perché tu non sei nello stereotipo della persona che ama gli Stati Uniti e non lo dico solo io c'erano varie domande che diciamo questa cosa ok com'è lo stereotipo della persona che ama gli Stati Uniti no nel senso lo stereotipo italiano della persona che ama gli Stati Uniti è quella che non voglio il mio podcast lo posso dire che si fa le menate su che ne so ah che bella la libertà la libera impresa la deregulation land of the free land of the free esatto i cowboy e poi non so tu non rispecchi quella cosa lì o magari lo sei io non lo so e nella notte giri quei però cioè non sembri quello no non lo sono non lo sono allora a me mi affascinano per un sacco di motivi diversi e mi affascinano anche per delle cose che poi non mi piacciono ma che sono curioso di capire come funzionano per cui il fatto che siano armati fino ai denti no non mi piace non la vorrei mai è una delle cose di cui ho più paura forse è la cosa di cui ho più paura quando mi trovo negli Stati Uniti il fatto che una situazione come una lite per un parcheggio una rissa davanti a un pub a un certo punto è facile che qualcuno possa tirare fuori una pistola però io non mi voglio rassegnare non mi sembra soddisfacente la spiegazione vabbè sono americani sono matti perché questi qui che non sono vi garantisco così diversi da noi nel bene e nel male questa cosa non capiscono che questa cosa è assurda e quindi mi affascino a cercare di capire il perché detto questo non voglio eludere la domanda cose che mi piacciono degli americani hanno una concretezza e un pragmatismo strepitosi davanti a un problema gli americani nel tempo in cui noi abbiamo stiamo ancora cominciando a discutere di come descrivere quel problema di chi sia la colpa loro stanno già provando cinque modi diversi per risolverlo magari non ci riescono magari ci riescono ne lo peggiorano però hanno una capacità di affrontare la realtà senza farsi troppe pippe mentali scusa se approfitto del tuo podcast per dire anche le parole secondo me invidiabile da cui potremmo imparare qualcosa sono anche una società che mentre ha questo patriottismo così solenne esagerato su tantissime cose sanno essere dissacranti non hanno un grande culto del passato come il nostro forse perché ne hanno anche poco è un posto giovanissimo 300 anni fa negli Stati Uniti c'erano un sacco di persone ma non erano quelli che noi oggi consideriamo americani erano i cosiddetti nativi americani indiani d'America la cultura americana la civiltà americana è molto giovane mentre invece se tu vai a mille anni fa trovi delle cose che sono italiane anche se l'Italia come nazione non esisteva e questo modo di avere poca cura del passato ed essere molto più interessati al futuro è una cosa degli americani che a me piace e che soprattutto noi mi sembra che abbiamo a volte la tendenza opposta abbiamo un culto del passato straordinario e verso il futuro un pensiero un po' troppo fatalista cose il lancio di agenzie a costa rinnegare il passato abbandonare il passato che schifo che schifo tutto quello che è vecchio non mi interessa un po' è vero devo dire onestamente oh wow se sei troppo vecchio bene se sei troppo vecchio diciamo non lo so se sei cosa più di 300 anni no anche meno ma no non voglio fare non voglio fare il nuovista la clip si interrompe qua sì però la storia del novecento è la storia più figa che ci sia secondo me poi indietro ci sono un sacco di altre cose interessanti però la storia del novecento è la storia che mi piace molto di più però questa è veramente una divagazione ho tanti amici che amano la storia del seicento la cosa che di tantissime altre naturalmente la cosa degli americani che non mi prenderei e anzi che secondo me loro dovrebbero cambiare dovrebbero imparare un po' da noi è un posto in cui i legami tra le persone sono molto più blandi di quanto ci sia tra noi e noi abbiamo anche dei problemi di familismo perché abbiamo a volte dei legami troppo stretti le nostre società sono molto familiste appunto e intrecciate però avete visto forse il film Nomadland avete letto il libro comunque sapete forse del problema delle persone che in America non hanno una casa o perdono la casa ed è un fenomeno completamente diverso da quello delle persone senza tetto in Italia se in Italia tu non hai più una casa prima di arrivare a quel punto lì hai perso un sacco di altre cose quello è il punto finale hai perso il lavoro non era nessuno che ti possa aiutare quando sei al punto più basso hai perso anche la casa negli Stati Uniti si perde la casa con estrema facilità e non hai letteralmente un posto in cui andare i figli partono per andare a studiare in college in un altro stato trovano lavoro in quell'altro stato e non tornano a casa a trovare i genitori per 4 anni per 5 anni è abbastanza normale come dinamica non è di tutti ovviamente però succede i rapporti tra le persone sono molto meno fitti di quanto accada tra noi e questo fa sì in un paese che poi non ha un vero welfare cioè non hai i sussidi della cassa integrazione c'è di anno ma poco fragili sottoposti a mille condizioni è molto facile restare indietro e se resti indietro resti con nulla perdi il lavoro e perdi automaticamente la copertura sanitaria perché la polizia è legata al posto di lavoro magari durante una pandemia non puoi pagare il mutuo della casa e perdi la casa e questa cosa si succede non se non sei bravo perché c'è il mito appunto della società americana che è molto meritocratica ed è vero che premia il merito con grande efficacia ovviamente senza essere infallibile con tutti i bias di genere di etnia di religione che esistono però se resti indietro a volte resti indietro non perché non te lo sei meritato ma perché l'uragano ti ha battuto la casa perché qualcuno ti ha sparato a una gamba e quindi non puoi più fare il lavoro che facevi prima e chi resta indietro se la passa veramente male e in un paese che è la prima potenza economica culturale militare scientifica del mondo è una roba che continuo a trovare assurda e per certi versi vergognosa se non fosse che il loro paese quindi non posso vergognarmi per loro però abbastanza vergognoso ma perché succede una cosa del genere perché questa cosa di fare i grossi nuclei i clan che poi sono anche un po' tipici della nostra cultura invece queste famiglie grandi grandi che poi fanno anche un po' da welfare interno a gruppi stessi per il posto di lavoro perdi la casa andrai a stare da qualcuno chiaro questa cosa non succede solo in Italia ovviamente ci sono anche culture asiatiche dove questo accade perché gli Stati Uniti cioè il luogo della frontiera nel quale effettivamente tu vai sei solo e ci sono delle terre inesplorate non sai nulla potresti morire in qualsiasi momento non sviluppa questa mentalità da clan perché sei solo? allora intanto perché forse dico una banalità però secondo me il fattore geografico lì ha un peso cioè gli Stati Uniti sono un posto molto poco densamente popolato la struttura del clan la struttura della della vera attorno a sé un cerchio affollato di persone è più facile in un posto che è molto densamente popolato in un posto che è molto poco densamente popolato in cui le persone care che hai il tuo clan si trova a due tre quattro ore di macchina diventa un po' più difficile sollecitarlo e metterlo insieme e questa è la vita quotidiana di un grosso pezzo della popolazione americana e poi mi chiedo a volte se puoi avere la cosa positiva che dicevo prima il pragmatismo se vuoi anche la meritocrazia che con tutti i limiti ripeto che ci sono ma c'è negli Stati Uniti senza avere l'altra faccia della medaglia e cioè l'economia americana produce tantissimo e loro primeggiano oggi un po' meno di prima ma continuano a primeggiare in un sacco di cose siamo nei giorni dei premi Nobel vedete come ogni anno la lista dei Nobel o sono americani o studiano in America o hanno studiato in America però questa capacità di primeggiare e di andare verso la frontiera è parte di una cultura che non potrebbe esistere se non fosse anche un po' feroce forse e cioè la corsa verso la frontiera perché è così eroica e romantica perché è pericolosa e perché se non ce la fai muori nel deserto non è che ti vengono ad aiutare a dire ok hai perso riprovarai la prossima volta e mi chiedo quindi ovviamente oggi non siamo più nell'Ottocento non si va verso la California a cercare l'oro eccetera però mi chiedo se queste due cose sono inscindibili e non puoi avere una società che produce tanto competitiva meritocratica che innova che va cerca di andare al doppio della velocità di quello che viene negli altri paesi senza avere questa parte brutale feroce che ha evidentemente il capitalismo americano e tu questa cosa l'hai percepita in tutti i posti degli Stati Uniti in cui sei andato cioè da le città super follate a che ne so le parti centrali la Bible Belt è tutto allora ovviamente secondo me sì perché è un tratto culturale degli americani poi avviene in modo molto diverso secondo il posto in cui ti trovi nelle zone rurali avviene in un modo che è molto diverso da quello di San Francisco che è feroce per certi versi molto più feroce di New York che comunque ha la sua sa essere diciamo un posto cattivo credo che in buona parte dipenda dal settore in cui lavori dalla vita che fai però però rimane è un tratto culturale americano che secondo me prescinde un po' dal posto in cui ti trovi è anche quello che loro si raccontano in continuazione cioè loro sono consapevoli del fatto che perché poi hanno messo in piedi tutta quella la cultura del fallimento va bene se fallisci sei fallito riprova di nuovo che c'è quella roba molto di imprenditori americani che poi gli start-up italiani si riciclano ma qui non funziona molto perché è un modo per rendere coerente un sistema di valori che comporta che devi andare al massimo della velocità e che se resti indietro tendi a essere considerato un fallito e allora loro si raccontano no però tu puoi riprovare guarda quelli che ci hanno provato cinque volte soltanto la sesta volta ci sono riusciti ma fa parte del modo in cui sono fatti e del modo in cui loro si autoraccontano ok e perché non vivi negli Stati Uniti domanda scema però non so neanche con chi sei quindi magari sto dando idee sbagliate no 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 vai negli Stati Uniti in realtà è una domanda perfettamente legittima e sensata detto che non escludo di andarci a un certo punto non penso di trasferirmi mai per la vita lì per tanti motivi un po' perché questo è il mio posto nel senso che io qui ho costruito qualcosa un clan una famiglia una ho lavorato in un giornale che sento mio perché l'ho fatto con tutte queste altre persone per 11 anni negli Stati Uniti dovrei in qualche modo ricominciare da capo oppure lavorare per l'Italia dall'America mi sembrerebbe una cosa un po' che secondo me che succede ancora che giornalista ancora lo fa secondo me non si lavora bene in quel modo quando ti mandano a fare l'inviato l'inviata negli Stati Uniti quello che succede non in tutti i casi però nella gran parte dei casi che prendi casa a New York è molto bello hai il polso del paese parlando con le persone che il tuo giro a New York che molto spesso sono italiane a New York o se no sono il tassista e il salumiere leggi il New York Times guardi la CNN e fai dei pezzi da lì che potresti fare tranquillamente dall'Italia l'alternativa se vuoi fare davvero secondo me bene l'inviato l'inviata è una cosa che ha fatto per esempio per tanti anni Giovanna Pancheri di Sky sempre per fare i nomi diciamo di chi poi secondo me lavora molto bene è che deve andare molto in giro però allora io preferisco stare in Italia e tenere un piede qui e poi due tre quattro volte l'anno andare negli Stati Uniti andare sempre in un posto diverso per cui non avere mai casa da qualche parte e andare una volta in Michigan una volta in Iowa una volta in California a seguire una storia a vedere un posto a farmi un'idea di quello che accade in quel pezzo di America e tenere anche un piede qui perché io parlo delle persone italiane le mie cose vengono lette ascoltate da persone italiane per cui devo sapere qui di cosa si parla quali sono le priorità delle persone e devo essere parte della comunità a cui mi sto rivolgendo per il momento secondo me per me questo è il modo più sano di lavorare tenere un piede qua un piede là poi chiaro dal 2020 a oggi ho tenuto tutti i piedi qua però spero di tornare presto per me quella è la dinamica migliore ok detto che ti piacerebbe girare un sacco come appena detto c'è un posto dove vorresti dovendo scegliere qual è? allora la risposta facile è New York perché New York secondo me è uno dei posti più belli del mondo c'è l'Italita lì ci sono gli italiani no guarda gli italiani che vanno a New York e stanno in mezzo agli altri italiani li prenderei a schiaffi gli vanno a New York e mangiano la pizza perché la pizza ormai è quasi una specialità new yorkese ma la mozzarella di bufala cioè se è New York c'è la cucina migliore di qualsiasi paese del mondo probabilmente gogiti un po' la città però New York mi piace tantissimo ci sono anche molto legato sul piano affettivo è stato il primo posto che ho visto negli Stati Uniti è un posto in cui sono a successa anche alcune cose importanti della mia vita quindi andrei probabilmente a New York però durante non mi ricordo se il primo o il secondo lockdown quando soffrivo particolarmente la clausura dentro il mio trilocale a un certo punto su YouTube mi trovavo a guardare questi annunci immobiliari di queste case in Texas in campagna con 7 ettari di giardino 4 piani 8 camere da letto ma perché? però sì se non andassi in New York probabilmente cercherei un posto in Texas con un sacco di spazio un sacco di il sole tutto l'anno ok vorrei parlare del Texas però devo spezzare una lancia a favore di chi va a mangiare la mozzarella di bufala anche tu i tanti amici che mangiano la mozzarella di bufala sì senz'altro io da poco sono diventato ossessionato da Little Italy ok perché alcuni di loro lo sanno io divento ossessionato per le cose stupide ho scoperto una roba che si fa proprio a New York cioè le interviste per strada le stupidaggini e c'era tipo la sagra di San Gennaro una roba così ed era una cosa non so se si chiamava proprio così ok no era proprio di San Gennaro ok allora non lo so no 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 sei tu l'esperto no no la sagra la festa non so no scusa no no quindi bandiere italiane una roba di un trash incredibile e ho iniziato a seguire vari di personaggi che appa arrivano in questo video personaggi che si chiamano tipo Lil Mozzarella e cose così li seguo su Instagram sì l'interesse giornalistico è nato dalle piccole cose ho iniziato a chiedermi ma questa non è cultura italiana nel senso mostravano delle cose che sembravano italian sounding sembrava che però non non sono italiane nel senso è un'altra cosa è un'altra cultura che si è sviluppata partendo dall'Italia ecco tu avrai avuto contatti con quella roba lì sì certo le persone che parlano in inglese e in siciliano e non sanno l'italiano però perché hanno magari storie di immigrazione per cui i loro genitori immigrati dalla Sicilia parlavano quasi soltanto il dialetto i figli sono nati lì parlano il dialetto siciliano perché l'hanno sentito dai genitori loro però sono nati in America sono americani e quindi la loro cultura italiana è una roba che è molto distante dalla nostra cultura è un grande mischione di cose americane cose simili italiane e cose degli italiani a New York che hanno poi una loro cultura che è staccata cioè gli italiani a New York sono staccati dagli italiani che lo erano nelle vecchie generazioni secondo me un po' sì nel senso che le vecchie generazioni di italiani a New York o comunque negli Stati Uniti tendevano molto a vivere perché ci sono i vari quartieri Little Italy perché tendevano molto a fare comunità e a vivere molto vicini e a costruirsi attorno a sé delle reti di persone che fossero composte soltanto da italiani questi non erano lì perché volevano vivere in America erano lì perché volevano campare l'America era un posto in cui potevi lavorare ma se riuscivano a vivere senza essere costretti a imparare l'inglese circondati da persone del loro paese lo facevano anche perché spesso anzi quello era il motivo che aveva permesso il loro arrivo negli Stati Uniti le persone italiane che arrivavano in America non sceglievano se andare a Boston a Chicago a New York sulla base di quale città avesse il miglior mercato immobiliare ma mio cugino l'anno scorso è andato a Chicago mi ha detto che si trova molto bene vado da lui che tanto mi ospita finché non trovo casa e quindi nascevano queste comunità erano di fatto delle grandi famiglie allargate ci sono delle Little Italy in cui c'è una fortissima presenza di persone di origini campane in delle altre sono tantissimi siciliani come origini perché nascevano così allargandosi però poi quando cominci a fare dei figli e i figli cominci a mandarli nella scuola americana è chiaro che i rapporti con la cultura dei tuoi genitori si diluiscono diventi sempre più americano e quindi l'identità anche un po' granitica che aveva la Little Italy americana oggi non c'è più in parte se vai a New York è una cosa che loro tengono anche un po' artificialmente in piedi perché le persone che passano da lì piace vedere quella cosa lì in parte ce l'hanno però è chiaro che è molto più è tutto mescolato rispetto a prima che però è la cosa che è normale con le culture cioè quando tu dici prima e dici giustamente quella cultura italiana che vedi in America non è la nostra cultura italiana è vero ma allo stesso tempo la nostra cultura italiana cambia in continuazione contaminata da quello che riceviamo dagli Stati Uniti da altre parti d'Europa e del mondo e quella americana cambia perché oggi ci sono tantissime persone di origine latinoamericane e le persone afroamericane sono sempre di più e non sono mai state così influenti ed è tutto un grande mischione intanto qualcuno si illude del fatto che ci sia la cultura italiana che sta in questo cassetto sì è vero c'è anche da dire che gli Stati Uniti sono un luogo nel quale questa cosa può avvenire con una certa facilità noi siamo molto resistenti a questa idea la stessa cosa che tu hai detto sull'immigrazione in questo momento e non stavi parlando d'Italia sarebbe molto controversa a seconda del tuo interlocutore non lo è con me però so che dire una cosa del genere arrivano le persone è normale si integrano i figli poi vanno a scuola e diventano italiani cioè diventa controversa anche se qui è così è così ed è inevitabile che sia così tra l'altro poi tu puoi decidere se rendere la vita più o meno complicata le persone e ci sono tanti modi per farlo in un modo in un senso o nell'altro però è piuttosto inevitabile le culture non sono mai state impermeabili ai cambiamenti ma anche le culture supponiamo quelle diciamo che riescono a proteggersi dalle che poi è veramente quasi impossibile ma dalle influenze esterne dall'immigrazione sono comunque culture che si evolvono e cambiano con l'evolverse della società questo è uno dei motivi per cui per dire c'è un concetto molto americano che viene adottato ormai anche in Italia ed è una cosa molto woke diciamo il reato di appropriazione culturale è chiaro che quando maneggi linguaggi strumenti tradizioni riti che appartengono a una cultura diversa dalla tua devi farlo con mille cautele con molto rispetto e con grande attenzione però però io non penso che debba essere vietato che un bianco faccia rap per dirne una ormai sdoganata ma tante altre cose per cui se non sei nero non puoi parlare della questione degli afroamericani o non puoi divertirti con delle persone amiche tue a un festival di cultura afroamericana e magari partecipare anche a una danza che fanno loro le culture sono sempre state questa cosa qui si sono sempre mescolate condizionate influenzate in continuazione perennemente la cosa che dici tu sul fatto che possa essere controverso dire questo e dire che è normale che le persone si spostino e cambi nei posti in cui vanno a vivere perché noi oggi viviamo in un momento in cui qualcuno pensa di dover proteggere la sacra identità italiana è veramente una un'illusione non esiste parliamo degli asini che volano non esiste una cultura italiana da proteggere ok non è soltanto l'Italia comunque questa cosa è successa anche negli Stati Uniti c'è stato un presidente che di quello ha fatto la sua forza certo perché e questa se vuoi è una cosa ulteriormente singolare non scontata e di cui è interessante andare a cercare di capire le cause perché se noi siamo effettivamente una società piuttosto omogenea sul piano etnico per esempio e quel pochino di meno omogeneo l'abbiamo vissuto negli ultimi anni come un'invasione la sostituzione etnica o questa roba dell'altro mondo gli Stati Uniti sono un paese che si basa sull'immigrazione cioè appunto 300 anni fa lì c'erano i nativi americani tutte le persone che oggi vivono in America e non sono eredi diciamo di chi stava lì dei popoli indigeni sono tutte persone che sono arrivate dalla Germania dall'Italia dal Portogallo dall'Inghilterra tantissime dall'Africa contro la loro volontà perché deportate come schiavi sono tutti immigrati hanno tutti Trump ha origini tedesche Biden è irlandese Obama è mezzo keniano e questo è un paese in cui non un presidente di sinistra ma Ronald Reagan negli anni 80 disse voi potete andare in Francia ma non sarete mai francesi potete andare in Giappone ma non sarete mai giapponesi se venite in America potete essere americani come tutti gli altri e che un paese così in 30 anni in 40 anni passa da questo a un partito e un presidente ideologicamente bianco se vuoi ci dice quanto il mondo rimpicciolendosi abbia annullato alcune differenze culturali per cui appunto i sovranisti italiani oggi somigliano ai cosiddetti sovranisti americani e certe parole d'ordine oggi sono abbastanza intercambiabili probabilmente è un effetto della globalizzazione e anche come quella difesa un po' ancestrale della nostra identità della nostra cultura probabilmente è appunto ancestrale cioè parla delle parti di noi che sono per esempio la paura la preoccupazione per il futuro per l'ignoto la sensazione di star perdendo qualcosa di importante e questo tipo di pulsione ha una sua efficacia in modi diversi anche però su popoli molto diversi come possono essere gli italiani gli americani ma allora la domanda a questo punto è gli Stati Uniti hanno sempre avuto questa cosa o effettivamente l'hanno un po' presa nel tempo perché io ho un po' l'impressione che gli imperi quando crescono tendano a fare questa cosa qui cioè ad assimilare tutto ciò che è vicino loro quindi ad esempio gli Stati Uniti grande impero moderno è normale vedere che ne so il generale afroamericano poi che ne so la segretaria di Stato sto esagerando però è abbastanza normale vedere figure di potere che vengono da varie etnie da varie storie da noi questa cosa non succede io ho l'impressione che invece un impero uso sempre la parola l'impero quando è in declino inizia a sollevare i muri perché si sente attaccato ma allora la domanda è prima negli Stati Uniti nella storia degli Stati Uniti nella breve storia degli Stati Uniti questa cosa non era percepita non abbiamo paura delle persone nuove che arrivano le persone diciamo conservatrici ci sono sempre state quindi è un sentimento che si è semplicemente aggravato è cambiato no io credo che prima per gli americani fosse più facile descriversi e provare a comportarsi come il paese che dà accoglienza a chiunque in cui tutti possono essere americani perché prima era molto chiaro che in questo paese così diverso comunque comandavano i bianchi e quindi c'è un'accoglienza c'è una valorizzazione di più identità però comandano i bianchi e quindi poi questa accoglienza questa valorizzazione è limitata a certi contesti a certe posizioni di potere non può andare oltre un tot questo perché i bianchi avevano letteralmente il potere assoluto questo parliamo di un paese che ha avuto per quattro secoli la schiavitù cioè non è che c'era il razzismo c'erano delle leggi che dicevano che le persone nere erano come gli animali potevi venivano vendute comprate al mercato potevi fare qualsiasi cosa e quindi è facile dirsi aperti a tutte le culture quando sai che il potere resta tutto tuo nel momento in cui questa cosa è cominciata a cambiare in America negli ultimi 20-30 anni per ragioni che tra l'altro sono soltanto in parte legate all'immigrazione ma in una buona parte a fattori proprio demografici di natalità i bianchi hanno cominciato ad essere sempre di meno e oggi tra chi ha meno di 18 anni già oggi i bianchi sono la minoranza cioè tutte le altre minoranze etniche cosiddette sono in realtà maggioranza messe insieme e questo fattore banalmente numerico si traduce in una perdita di potere dei bianchi c'è un grande riequilibrio di potere per cui improvvisamente il tuo capo ufficio è afroamericano la persona più ricca della città è una donna di origini asiatiche il presidente è afroamericano eccetera eccetera i prodotti culturali vendono al loro interno sempre più storie e persone che non sono bianche le canzoni che vendono di più viene ucciso George Floyd che non è certo il primo afroamericano ucciso dalla polizia nemmeno che vediamo nelle immagini e le aziende fanno la gara a pubblicare il quadratino nero su Instagram e noi diciamo vabbè lo fanno per moda lo fanno perché conviene lo fanno perché si deve fare mettiamo pure che sia così che sia soltanto una roba cinica perché pensano che si debba fare perché perché non puoi più ignorare un pezzo della popolazione che praticamente maggioranza o quasi lo diventerà breve mentre 30 anni fa nei anni 90 Michael Jordan diceva io non parlo di politica perché anche i repubblicani comprano le scarpe e poteva fare questa cosa oggi Adidas non può non mettere il post nero su Instagram se vuole continuare a vendere le scarpe detto che magari lo fanno in buona fede ecco davanti a questa perdita di potere dei bianchi non è che sono tutti contenti arriva uno e ti dice make America great again rendiamo l'America grande come era prima è chiaro quale sia lì il messaggio il sottotesto e improvvisamente questo racconto dell'America che è un posto che accoglie tutti in cui c'è un posto per tutti comincia a diventare un po' faticoso perché non ci avevate detto che questo voleva dire che dovevamo rinunciare al nostro potere totale e oggi gli americani stanno facendo un po' i conti con quanto sia con quanto comporti dei sacrifici e la rinuncia a certi privilegi mantenere la promessa di un paese aperto a chiunque creda nei valori della libertà della democrazia eccetera eccetera e questo si traduce anche nelle differenti opinioni che ci sono i differenti stati cioè gli stati più interni e più lontani da questi fenomeni sono quelli che in realtà si radicalizzano di più in tal senso tantissimo una delle ragioni di questo cambiamento demografico è che oggi l'economia americana ma oggi ormai da un po' di tempo l'economia americana cresce molto di più nei posti che sono più diversi sul piano etnico se vai a vedere la mappa sono le città innanzitutto la crescita americana è trainata dalle città che sono i posti in assoluto più multietnici e gli stati del sud dove tu hai da una parte a est la più numerosa popolazione afroamericana e a ovest invece la più numerosa popolazione latinoamericana e i posti più diversi sul piano etnico i posti con più immigrazione con culture più mescolate tra loro sono quelli che danno più opportunità più ricchezza che creano più prosperità e quindi in cui è più facile per esempio decidere di fare dei figli di fare una famiglia i posti che sono più omogenei sul piano etnico penso al Midwest e gli stati del nord sono i posti più rurali dove l'economia va peggio dove hai meno opportunità dove fai meno figli e siccome quelli lì invece vanno sempre meglio io tendi a pensare che sia colpa loro ci hanno tolto qualcosa ci rubano il lavoro per usare un'espressione più italiana che americana quando perdi potere e vedi qualcuno che lo sta guadagnando è difficile pensare che dipenda da dei trend economici demografici e non dal fatto che qualcuno ti stia togliendo qualcosa specialmente quando poi c'hai un partito o la politica in generale che queste tensioni le utilizza per raccogliere voti per guadagnare consensi e affermare potere quindi tu pensi che questo sia un fenomeno che continuerà in questo senso cioè che sia un piccolo una piccola buca nella strada il make america great again e non invece una direzione no non lo so nel senso che oggettivamente io faccio molta fatica a fare previsioni sul futuro perché mi sembra che le persone che ci provano con un sacco di competenza non a caso con gli studi con i trend poi inciampano sempre nel fatto che avvengono cose imprevedibili quando diciamo e vale per un sacco di discorsi di questo passo nel 2040 le cose non vanno mai di questo passo le cose cambiano sempre il passo arriva la pandemia arriva l'11 settembre qualcuno scopre come strarre il petrolio dalle rocce qualcuno scoprirà come fare una batteria che dura 10 volte di più di quella di oggi quindi le cose non vanno mai di questo passo in nessun senso non vuol dire che vadano meglio o possono andare peggio però non lo sappiamo io tendo a pensare che un posto come l'America per la rapidità con cui sta cambiando e per come poi questi cambiamenti sono anche sorretti appunto dalla crescita economica non è una questione culturale che si diventa più politicamente corretti c'è un pezzo dell'America che oggi diventa più influente più potente anche in sede elettorale che questa cosa andrà a un certo punto verso una sorta di relativa e lenta pacificazione però penso che le cose andranno peggio prima che vadano meglio al netto ok vabbè questo ok va bene cioè mi sembra che non abbiamo ancora girato la curva non hanno ancora girato la curva allora in tal senso vorrei ancora un attimo parlare di questa cosa perché tu hai parlato degli stati tantissimo tantissimo però adesso vorrei contrastarti su questo nel senso che tu hai parlato di crescita economica e di un cambiamento che è spinto da questo aspetto lo dico anche per chi magari non lo sapesse ma non sono tutti meglio di me c'è un fenomeno che io sto guardando che è il Texas che si popola tantissimo cioè c'è un esodo soprattutto dalla California ma da molti stati molto ricchi verso il Texas che è comunque uno stato rico ma non è ricco come la California che fosse una nazione sarebbe una delle più ricche al mondo l'ho detto con un po' di timore aspettano di essere contrastato invece alla grande la quinta economia del mondo sarebbe la quinta economia la differenza tra la California che è in ottica americana super progressista e quindi con un welfare poco poco più forte con un'attenzione agli ultimi poco poco più strutturata che la California si spopoli e invece si riempie il Texas che negli ultimi anni si sta gonfiando tantissimo che invece una nazione è una nazione è uno stato diverso è quello che adesso sta portando l'aggravio delle leggi sull'aborto è quello nel quale un certo tipo di America è ancora molto presente anche nella narrazione cowboy e tutta quella roba lì che cosa significa perché sta succedendo questa roba che che le tue due descrizioni di California e Texas per quanto diciamo formalmente corrette nascondono delle cose che sono meno raccontate la California immagina è uno stato sono 40 milioni di abitanti è una nazione in sostanza in cui sta avvenendo ormai da un po' di tempo una sorta di gentrificazione su scala nazionale il fenomeno che noi associamo a un quartiere che improvvisamente in cui tutti vanno a vivere i prezzi delle case salgono chiude nella bottega dell'artigiano e apre la grande catena immaginate che quella cosa lì stia avvenendo su scala nazionale per cui anche se hai un welfare un po' più generoso che però vuol dire anche tasse più alte per gli standard americani le tasse in California sono molto alte è anche un posto in cui per dire a San Francisco non ci sono più le case non si sa dove andare ad abitare un posto letto costa 2500 dollari un posto letto non è anche una stanza e questo fa sì che vivere in California oggi sia qualcosa che puoi permetterti se sei molto ricco ed è sempre di più quello che tu devi guadagnare per vivere dignitosamente in California perché questa fortissima economia pensa da una parte c'è Hollywood cioè pensa che economia gigantesca la grandissima parte dei film e delle serie tv che vengono guardati in tutto il pianeta vengono fatti in un posticino tutto sommato abbastanza piccolo vicino a Los Angeles adentro Los Angeles San Francisco Facebook Twitter tutta l'economia digitale ma anche Cisco tutta in una zona anche lì abbastanza piccola San Francisco è grande quanto Siena ecco e tutto questo fa sì che attira un sacco di gente che va lì soltanto per lavorare che quindi non ha tanto interesse nel fare famiglia vuole guadagnare un po' di soldi e poi semmai andarsene da un'altra parte e persi la propria azienda vivere lì è costosissimo vivi in degli appartamenti minuscoli a un certo punto vedi che se vendi la casa che magari sei riuscito a comprare a San Francisco vai ma non per forza in Texas vai in Idaho e ne compri tre di ville con un giardino gigantesco oggi puoi anche pensare di lavorare da remoto per esempio ma se no lavori lì perché a Austin in Texas oggi c'è una sorta di distretto digitale che non sarà la Silicon Valley ma che comincia a essere competitivo HP si è trasferita in Texas Tesla si è appena trasferita in Texas le grosse aziende che si trasferiscono in Texas sono sempre di più e trovi un posto in cui le tasse sono basse hai un sacco di spazio le case costano poco e qual è anche il fenomeno qui interessante che tutti questi californiani che per esempio vanno in Texas e sono circa 100.000 ogni anno sono parecchi ci vanno lasciandosi alle spalle la California che hanno costruito nel modo in cui adesso anche loro nel loro piccolo con il loro voto vanno in Texas sono in gran parte democratici contribuiscono a far diventare il Texas sempre meno quella roba lì perché oggi il Texas culturalmente è uno stato molto più diverso più variegato politicamente è uno stato contendibile vincono ancora i repubblicani ma con molto meno margini di quanto vincevano prima e però così facendo fanno diventare il Texas più vicino e più simile al posto da cui sono scappati che è la critica che viene mossa loro perché ho proprio visto i texani che si lamentano e dicono avete reso la California quella roba lì noi non la vogliamo e invece ci portate qui il problema lo slogan dell'attuale governatore del Texas nelle ultime elezioni era don't California my Texas in Idaho ci sono le scritte sui muri Californians go home perché poi in Texas c'è anche un'economia fortissima per cui anche prima che arrivassero i californiani in Texas c'è il petrolio c'è l'industria biofarmaceutica pazzesca ma in Idaho in Idaho questa fa ridere non so se è presente le targhe americane le targhe delle macchine sono diverse stato per stato e ogni stato mette nella sua targa il suo motto la cosa di cui sono più fieri Florida the Sunshine State lo Utah c'è la la Monument Valley le cose per cui è più famoso quello stato la targa dell'Aidao c'è scritto famous potatoes oh ok cioè questi c'hanno le patate non c'hanno altro che le patate e sono buone queste patate saranno buonissime sono i più grandi esportatori non ci sei stato ma allora che inviato sei no ma ci devo andare ci devo andare patate dell'Aidao sarà uno dei prossimi posti in cui vado sul serio l'Aidao arrivano questi californiani che sono anche come mentalità e cultura un po' diversi da questi dell'Aidao vendono la casa a San Francisco se ne comprano tre in Aidao lavorano da casa per cui non portano nemmeno lavoro lì non aprono un business lì sono sviluppatori fanno dei lavori che puoi fare da casa i prezzi delle case in Aidao salgono e questi dell'Aidao odiano i californiani a morte e hanno le scritte sui muri i Californians go home è come se i californiani in tutto questo in California non abbiamo citato che c'è una siccità come non è mai stata così grave nella storia dello Stato che ogni anno l'1 e il 2% dello Stato della California bruciano con questi incendi che non sono incendi qualsiasi ti ricordi le foto di San Francisco col cielo arancione è un posto in cui è sempre più complicato vivere e vanno invece in questi posti con la natura incontaminata in cui c'è pochissima gente col rischio che vengano visti come una sorta di virus per usare una metafora tristemente attuale o appunto di portare la gentrificazione anche lì per cui uno si chiede quello che sta avvenendo in California è un problema della California di globalizzazione di crescita economica andata male o è semplicemente quello che succederà tra 20-25 anni in tutti i posti che riescono ad avere una forte crescita economica ma che però diventano finiscono per essere vittime di quella crescita faccio un esempio è una metafora un paragone forzato per un sacco di ragioni ma pensa alla città in cui ci troviamo oggi che viene da 10 anni almeno di sviluppo di gran lunga più forte di quello del resto del paese di opportunità di crescita di attrazione di persone per cui Milano è arrivata alla sua popolazione massima da decenni a questa parte un milione e mezzo di abitanti e viva tutto bello se vuoi vivere a Milano devi comprare una casa a Milano devi pagarti l'affitto a Milano ci vogliono una barca di soldi una barca di soldi e questo espelle le persone alla lunga dalla città dal tessuto della città e non funziona mi chiedo se questa gentrificazione della California non sia l'antipasto di quello che rischia di accadere anche in altri posti ok perché un'altra critica che viene spesso mossa alla California io non so se voi avete mai visto la questione di senza tetto in California è incredibile ci sono Los Angeles soprattutto ha degli interi quartieri pieni di gente che vive per strada letteralmente con le tende ci sono poi le chiese che aiutano e quello è un altro aspetto che ovviamente i repubblicani visto che io in questo gioco sto facendo il repubblicano sono Joe Rogan in questo momento sono o Elon Musk mi piacerebbe Joe Rogan tantissimo mi piacerebbe un sacco di sensi ma ad esempio Elon Musk tu hai citato Tesla che si sposta in Texas lui l'ha fatto anche per ragioni politiche o comunque l'ha propagandata così questa cosa ha detto io vado in Texas perché la California è un casino troppe regole troppe cose di sinistra durante i giornalamenti poi la California ha messo quei pochissimi lockdown veri che ci sono stati in America sono stati molto in California hanno comportato anche la partecipazione dei lavoratori alle imprese fabbriche chiuse o quasi per volere dello Stato e quindi anche su quello Elon Musk ha fatto molta polemica scusa no ti ho interrotto no mi chiedevo se ci fosse secondo dal tuo punto di vista qualcosa di vero nella gestione politica ecco dello Stato perché io da qui non riesco a capire se effettivamente queste cose siano realistiche oppure se sia semplicemente propaganda dei repubblicani che dicono ah noi siamo più bravi guardate voi siete pieni senza tetto nonostante siate appunto un paese con un forte un paese uno Stato con forte welfare eccetera allora una parte significativa delle persone senza tetto che stanno in California arrivano in California dal resto dell'America perché in California ci sono dei servizi per le persone senza tetto che altrove non ci sono cioè San Francisco ci sono le menze ci sono i medici che passano con i furgoni per cui una parte di persone dall'Oregon dallo Stato di Washington dagli altri paesi vanno lì perché sanno che lì comunque vivono un po' meglio un'altra parte di persone arrivano lì e mi riferisco soprattutto a Los Angeles per ragioni climatiche se vivi per strada trovarti in un posto in cui fa più o meno 20-30 gradi tutto l'anno può fare la differenza tra vivere e morire perché se ti fai l'inverno in Wisconsin vai meno 30 facilmente se sei senza tetto sei letteralmente nei guai in un'altra parte sono persone che sono state espulse da questo sistema immobiliare di mercato immobiliare assurdo per cui è molto facile restare senza tetto io sono andato in California a un certo punto a Berkeley dove c'è la famosa Università di Berkeley e accanto a Berkeley c'era adesso credo che stiano facendo dei lavori un parco che chiamano People's Park ed è un parco che ha una lunga storia nella militanza dei movimenti di sinistra studenteschi degli anni 70 è un parco in cui si riunivano i picchetti è un parco che ha una storia importante ci sono tantissime persone che in quel parco tantissimi studenti dell'università che in quel parco vivono e dormono sono persone che studiano poi vanno nel parco dormono in tanda una delle università più costose del paese ma non si possono permettere una casa e quindi dormono e vivono al parco pubblico sotto un albero tutto normale tutto normale l'università ha cercato per anni di ottenere dal comune l'autorizzazione a prendere sto parco che oggi non è più un parco è un prato lercio pieno di rifiuti su cui la gente dorme e costruirci un dormitorio per gli studenti e i residenti delle case attorno non vogliono perché è chiaro che se tu in un posto come quello che hai quella domanda lì crei improvvisamente 1500 nuovi appartamenti il valore di chi ha un appartamento oggi di proprietà e lo mette in affitto diminuisce dovrai chiedere un affitto più basso se improvvisamente l'offerta aumenta chiaro che fai ad abbassare i prezzi beh invece avrai il campo profughi sotto casa quello aumenta esatto e quindi allora credo che questa cosa l'avevo anche raccontata nel mio primo libro questa è l'America credo di aver letto che un anno fa hanno sbloccato le cose per cui stanno effettivamente costruendo lì un dormitorio ma questa è una situazione molto comune per cui le persone senza tetto in America non sono nemmeno sempre soltanto le persone che hanno perso tutto che hanno magari problemi di salute mentale o di alcolismo sono persone che fino all'altro ieri avevano la casa un lavoro e improvvisamente sono finite in quel posto lì a vivere per strada in un posto come la California in cui un posto letto costa ripeto San Francesco 2.000 2.500 dollari è molto facile che lo perdi perché rimani indietro nell'affitto e in un mese sei rovinato in due mesi sei rovinato i texani hanno tutto un altro tipo di contesto in termini appunto di costo della vita di possibilità di offerta di lavoro per esempio legato all'agricoltura lavori che non per forza comportano che tu abbia 7 PhD che possa lavorare nell'azienda super innovativa hanno meno questo tipo di problema hanno un sistema generalmente più favorevole alle imprese nel senso che si pagano molte meno tasse quello che però non hai è un'enorme quantità di servizi sociali ci sono storie di famiglie che dalla California si trasferiscono in Texas magari avendo un figlio o una figlia con una disabilità e quindi dicono oh sì che bello qui in Texas guadagniamo molto di più perché ci sono molte meno tasse però improvvisamente tutta una serie di servizi che sono indispensabili al nostro figlio che prima ci forniva lo Stato adesso ce li dobbiamo pagare e quindi come sempre poi non è che il Texas ha trovato la formula magica devi solo decidere che cosa vuoi e a cosa sei disposto a rinunciare ok lo capisco però con il cappello da cavo non ti vediamo insomma niente mi piacerebbe però diciamo non per carnevale la foto con il cavolo da cavo te la sei fatta no io sono molto non andrei mai a cavallo per esempio oh ok no che cadi dal cavallo ti fai molto male oh no ma che atteggiamento è ma sono ma sono come quelli che si buttano tipo deltaplano non so cioè bello ma perché è come arrivare in Italia vuoi assaggiare la pizza e non colesterolo caduto col deltaplano morto caduto da cavallo si può morire io vado in motorino per cui figuriamoci a Milano vai in scooter rischio la vita quotidianamente però certe attività mi fanno sentire più a rischio di altre sarà una cosa irrazionale non scio se posso dire un'altra ah ok vabbè quelli che dicono no ma non è vero che ti rompi il ginocchio se si sci perché si sgancia subito lo scarpone poi sono tutte con le ginocchia con le legamenti spaccati tu vai in montagna sono tutte con le gambe rotte è un disastro dentro di me godo un po' quando mi dite che si rompi il ginocchio non sciano ok abbiamo parlato un po' di America volevo parlare ancora un attimo di me non sto scherzando volevo farti una domanda sui libri che hai scritto tu hai scritto due libri in realtà tre perché tu hai tradotto il libro di Joe Biden corretto? posso vendermelo come libro che ho scritto anche quello secondo me è un due e mezzo effettivamente l'ho fisicamente scritto nel producendo l'hai anche letto su Audible? no perché la mia voce non era credibile ma giustamente come voce di Biden ho cercato la voce di un attore un po' più attempato perché io quel libro l'ho ascoltato l'ho ascoltato con la voce di Biden peraltro un aneddoto su questa cosa alcuni la conoscono perché peraltro mi rende impossibile leggere il tuo secondo libro cioè io ho pianto leggendo il tuo secondo libro mi è piaciuto così tanto che ho pianto non per quello ma perché nel senso bellissimo libro ma ho pianto perché la storia di Biden che c'è nel libro cioè lui racconta la sua storia la intermezza la sua storia personale e poi la sua storia da vicepresidente e la sua storia personale è molto tragica cioè sembra che te lo sto dicendo io non so se lo sai ma la sua storia personale è molto tragica e ridiamo sui figli morti quindi ok guarda come si è subito oh no di cosa stiamo ridendo a un certo punto c'è proprio lui che che cioè legge il suo libro nel quale parla del figlio che a un certo punto cioè si ammala e quindi lui che va a trovarlo cioè immaginate come ne può parlare è una roba terribile io lo stavo ascoltando mentre andavo a correre perché io sono malato invece di ascoltare la musica ascolto un bai quindi piangevi correndo piangevo come un disperato avevo pure la mascherina perché all'inizio correvo con la mascherina perché avevo paura di tutto e quindi oh no mi ammalo e quindi c'ero io completamente devastato con sta mascherina con una faccia orribile che nessuno fortunatamente vedeva mi ero pure fatto male un ginocchio quindi zoppicavo una cosa orribile e quindi vabbè l'ho rimosso a un certo punto stavo leggendo il tuo libro sull'aereo non mentre venivo qui l'ho letto prima in un altro aereo e solo ricordarmi quello mi ha fatto ripiangere e non c'entrava niente nel senso ero lì ero devastato sull'aereo mentre tutti mi guardavano e mi sono anche un po' chiesto che cosa ti abbia spinto perché lo diciamo velocemente nel tuo secondo libro tu parli di Joe Biden e di Kamala Harris parli del percorso che li ha portati a essere quello che sono in un certo senso e anzitutto ti chiederei perché hai scritto quel libro? perché secondo me questi due sono diventati candidati del Partito Democratico in estate ufficialmente la presidenza e la vicepresidenza con buone possibilità di vincere le elezioni i sondaggi li davano in vantaggio in ampio vantaggio e Trump stava facendo tutto quello che poteva fare per perdere le elezioni a un certo punto certe cose le aveva rimosse ma vi ricordate che a un certo punto disse ma questo disinfettante che funziona così bene fuori perché non proviamo a metterlo dentro questo era il livello non è che l'ha gestita male la pandemia siamo su un altro campionato per cui mi sembrava che potesse essere interessante capire chi sono questi due e volevo tentare di fare anche un'altra cosa perché mi sembra che quando noi guardiamo i personaggi che fanno politica anche in casa nostra i candidati e le candidate li giudichiamo o sulla base di una questione di pelle su quanto ci sembrano più o meno empatici simpatici e sulle loro idee quindi sulle cose che promettono di voler fare ma mi è sempre sembrata una cosa molto imperfetta un metodo molto imperfetto per giudicare le persone che fanno politica e chi si candida per avere il nostro voto a parte perché nei programmi elettorali nelle campagne elettorali puoi mentire puoi promettere cose che non hai intenzione di fare puoi promettere cose che non sono realizzabili non puoi contenere mai l'imprevedibile nel 2018 abbiamo votato nessuno ci ha detto cosa faremmo in caso di pandemia sarebbe stato anche interessante magari però è successo nessuno sapeva quali erano le posizioni sulla pandemia della Lega dei 5 Stelle del PD eccetera e poi perché anche se fai un programma in buona fede con le cose che intendi fare con le cose che sono realizzabili secondo te la tua capacità o meno di riuscire a fare quelle cose dipende da delle caratteristiche che non stanno nei programmi che nessuno ti comunica che sono delle caratteristiche personali sai fare una trattativa un negoziato che carattere hai quando vieni criticato come reagisci sai fare squadra ti circondi di gente più scema di te o più furba di te quali sono gli errori che tendi a rifare quali sono gli errori da cui hai imparato qualcosa e quindi alla fine della fiera se vuoi sapere chi sono questi due che magari diventano presidente e vicepresidente piuttosto che leggerti il programma devi capire devi conoscere cosa hanno fatto prima come sono arrivati fin qui e quello ti può dare qualche indicazione e quindi il tentativo era proviamo a raccontare queste persone non è una biografia quindi alcuni episodi proviamo ad approfittarne per raccontare anche dei pezzi dell'America per cui io parto da una cosa che riguarda Biden ma nel frattempo racconto il sistema penale il sistema sanitario e proviamo a rispondere alla domanda chi sono queste due persone e proviamo anche a fare un libro questo diciamo te lo dico con grande onestà in un momento in cui c'era un fortissimo interesse per quello che stava avvenendo negli Stati Uniti e io pensavo dato il lavoro che avevo fatto prima di poter dare delle risposte o quantomeno provarci senza andare in America perché nel 2020 sono stato in America fino a febbraio e poi sono tornato in Italia non sono più potuto ritornare e allora non potevo fare un reportage non potevo raccontare le proteste degli afroamericani senza essere lì però un lavoro biografico storico su di loro consultando delle fonti a distanza da qui facendo delle interviste a distanza consultando archivi libri invece secondo me si poteva fare e quindi questa è stata la ragione per cui poi questo libro è nato ok qual è l'idea innanzitutto tu avresti votato per Biden e perché invece avresti votato per Bernie Sanders allora no perché io avrei votato per Biden però alle primarie allora sai allora ti rispondo non voglio eludire la domanda però fammi dire una cosa prima oh no Biden e Sanders con tutti gli altri quando dicono faremo questo faremo quest'altro quando propongono il loro pitch agli americani dicono votate per me non parlano con noi cioè parlano delle persone che sono diversissime da mettere certe cose che magari gli mettere danno un po' fastidio gli americani non le percepiscono perché loro non danno fastidio perché per loro non sono delle questioni ti parlo tutto quando gli americani parlano del bisogno a tassare di più i più ricchi parliamo di un paese in cui la tassazione massima è tipo del 27% ed è a perfettamente senso che una forza politica di sinistra in America dica che bisogna tassare dei più più ricchi in Italia quando anche chi ricco non è paga il 50% quasi in tasse non so la soluzione è tassare di più ancora le persone forse la soluzione è far sì che le tasse le paghino tutti per esempio però ecco la proposta politica che i candidati americani fanno agli americani è tagliata sulle esigenze e anche sulla cultura degli americani per cui adesso ti rispondo e ti dico quale dei due avrei votato però è un gioco un po' strano non parlano con me non sono non è me che devono convincere loro non stanno cercando di convincere me stai per dimmi che avresti votato Biden vero? no detto questo alle primarie non avrei votato credo ne Biden e Sanders a me c'era molto diciamo tra i candidati di sinistra Elizabeth Warren e Pete Buttigieg tra quelli diciamo un po' più moderati ma con un po' più di futuro secondo me Buttigieg è uno che farà delle cose è soltanto questione di tempo sotto traccia oggi fa il segretario del dipartimento dei trasporti che è una cosa noiosa ma lui la sta facendo molto bene con molta ambizione se me la metti su Biden-Sanders avrei votato Biden con la logica secondo me con cui hanno votato moltissime persone Biden a quelle primarie e cioè bisogna battere Trump a tutti i costi non possiamo correre un rischio scegliere il candidato socialista è un grosso rischio ok allora quale persona avresti scelto quale ti sembra la più la più convincente? credo comunque Biden ok comunque Biden per l'esperienza Sanders non ha mai fatto nulla che non fosse il sindaco di Burlington e il senatore eletto in Vermont che è un posto microscopico composto soltanto da bianchi Biden aveva i voti degli afroamericani sono andati tutti per Biden cioè Biden mi sembrava anche rappresentare un pezzo di America più vero e aveva con questo pezzo di paese così come molti altri rapporti costruiti in 40 anni è un'esperienza consolidata in un momento in cui il paese aveva la pandemia la crisi economica 4 anni di Trump alle spalle e tutte le cause dell'arrivo di Trump serviva secondo me qualcuno pronto dal giorno 1 poi questo non vuol dire che Biden farà benissimo però in quel momento lì in quella scelta lì avrei scelto Biden ok questa è la mia rovina perché tu lo sai che adesso qualsiasi cosa dirò in futuro sugli Stati Uniti mi diranno eh ma tu stai dalla parte di Biden chiaro e invece Kamala Harris era una paraculata Kamala Harris vicepresidenza se rispondi di sì è fatta se questo podcast sta volando io sono contentissimo allora perché c'è questo meccanismo per cui il candidato sceglie il vice o la vice lo sceglie non solo perché pensa che quella persona in caso di elezione sarà molto brava a fare il o la vicepresidente ma perché pensa che gli porti dei voti quindi è sempre una paraculata o un tentativo di paraculata i vice vengono scelti perché aiutino la campagna elettorale del candidato portandogli dei voti la cosa interessante semmai è perché in questo caso scegliere una donna non bianca sia stato conveniente per Biden perché se per 240 anni non era mai successo era perché non conveniva se no l'avrebbero fatto anche prima se adesso è conveniente la risposta è quel discorso che facevamo prima su come sta cambiando l'America oggi se scegli una donna una persona non bianca in certe parti del paese ottiene effettivamente un guadagno in termini di consensi di voti anche soltanto 10 anni fa non era così però anche lì è molto è molto sciocco secondo me ridurre la scelta di Kamala Harris a la scelta perché era una donna la scelta la scelta certo anche perché era una donna la scelta certo anche perché non è bianca vogliamo far finta che invece il genere non conti non sia contato nulla nel fatto che per 240 anni hai avuto soltanto presidenti uomini era chiaro che lì il genere era il criterio fondamentale se non eri uomo non lo potevi fare e quindi è andata a prendere una persona brava competente preparata tra quelle che fin lì non erano mai state rappresentate a quel livello Kamala Harris ha una carriera ottima significativa di incarichi ottenuti anche con difficoltà senza particolari aiuti politici sottoposta a tutta una serie di standard più elevati e di bias da parte della stampa per il fatto che lei era una donna per il fatto che lei non era bianca per il fatto che lei faceva la procuratrice la magistrata in un momento in cui in America le persone non bianche erano considerate la causa della criminalità certo non la soluzione e quindi è andata a prendere quella che secondo lui era la migliore a portare voti la più preparata tra le persone meno rappresentate ha fatto una scelta intelligente in questo senso l'aggettivo contiene anche il fatto che sei stata paracula ma perché se ti riesci poi sei stato bravo ok la domanda naturalmente successiva sarebbe chiederti come sta andando e qual è la tua valutazione sull'amministrazione Biden però vorrei più sapere se ci sono delle cose che l'amministrazione Biden sta facendo che negli Stati Uniti sono più palesi e che magari noi non vediamo perché molto della loro campagna era incentrata ovviamente era interna agli Stati Uniti non parlavano a noi come dicevi tu ma era molto sui diritti su tutto ciò che non era Trump cioè tutto il contrario di ciò che Trump ha portato avanti per cinque anni per quattro anni quattro anni però ora noi quando parliamo degli Stati Uniti vediamo solo la politica estera ovviamente vediamo cosa l'Afghanistan dubito che tu abbia una buona opinione di quello che è accaduto in Afghanistan se vuoi dire no certo che no ce l'ho pessima non penso che si possa esaurire tutto nel ritiro il giudizio di quello che è accaduto però certo è una cosa terrificante ma all'interno degli Stati Uniti c'è un'opinione diversa rispetto alle politiche interne ad esempio sta cambiando qualcosa o non cambia nulla poi bisogna vedere come andrà a finire però è vera la cosa che dici sul fatto che ci sono un sacco di cose che sono fuori dal nostro campo visivo è difficile che vi sia arrivata l'informazione a meno che non siate diciamo molto appassionati di questo tema che dal mese scorso e per i prossimi di fatto due mesi Biden si sta giocando probabilmente la rielezione perché sono in ballo le due leggi più importanti del suo mandato e sono due leggi economiche di stanziamento di soldi la cosa che sta facendo l'amministrazione Biden con una certa continuità che ha già cominciato a fare è spendere una montagna di soldi per non solo rilanciare l'economia ma provare a fare quella roba di ricostruirla meglio di prima loro sono arrivati e hanno fatto passare un pacchetto da 1900 miliardi di dollari per avere un'idea il recovery plan europeo e l'Europa ha 700 milioni di abitanti sono 700 miliardi di euro lì che sono 320 milioni di abitanti 1900 miliardi di dollari già stanziati li stanno già spendendo e adesso sono in discussione altre due leggi una da 1000 miliardi di dollari sulle infrastrutture e quindi ponti ferrovie ma anche le colonine delle auto elettriche tutto quello che è infrastruttura pesante e un'altra legge in discussione anche questa da 2500 miliardi di dollari scusate sono cifre mostruose sulla cosiddetta infrastruttura umana e quindi gli asilini idogratuiti l'università statale gratuita congedi parentali previsti dalla legge in america non esiste il congedo di maternità o di paternità per legge l'azienda te lo dà è un benefit ma non è obbligata a farlo taglia le tasse sulla classe media finanziato con un grosso prelievo fiscale sulle persone che guadagnano più di 400 mila dollari l'anno quindi sui ricchi questa partita politica è intricatissima perché loro hanno al senato una maggioranza che non c'è hanno 50 voti contro i 50 dei repubblicani quindi non devono perdere nemmeno un voto tra i loro e deve votare anche Kamala Harris come vicepresidente che è la persona che ha il compito di rompere l'eventuale parità quindi devi mettere d'accordo tutto un partito su queste due leggi quando c'è una che è quella che piace di più ai più moderati del partito democratico e l'altra che piace di più ai progressisti del partito democratico e queste leggi sono oggi reciprocamente ostaggio l'una dell'altra per cui questi dicono prendiamo la votata la nostra e poi noi votiamo la vostra e quegli altri dicono facciamo al contrario e entrambi temono che la prima legge che passa diventa l'unica legge che passa e questa cosa qui si deve risolvere a breve entro la fine dell'anno poi comincia la campagna elettorale delle mid term ecco perché quello diventerà il simbolo della presidenza cioè di quell'amministrazione se loro riescono a fare questa cosa far passare queste leggi fanno il più grande programma di investimento e spesa pubblica della storia del paese probabilmente quanto meno dagli anni 60 il più grande programma di sinistra della storia del paese degli anni 60 il più grande programma di welfare non è detto che vada bene però stravolgono un sacco di cose nella vita degli americani fanno somigliare l'America più a un paese europeo sul piano del welfare riducono enormemente le diseguaglianze economiche soltanto la legge quella già passata l'American Rescue Plan quella che già legge secondo le stime poi bisognerà vedere se le stime saranno reali può dimezzare la povertà infantile e tagliare di un terzo il tasso di povertà in tutto il paese per la quantità di soldi che mette nelle tasche delle persone più povere è una cosa enorme è la cosa per cui lui è stato eletto potenzialmente ed è anche un grosso cambio di paradigma perché da Reagan in poi gli Stati Uniti hanno sempre funzionato attorno all'idea che lo Stato debba fare sempre meno che il governo è il problema e non è la soluzione che piuttosto tagli le tasse tagli i servizi lasci i soldi in tasca alle persone e le persone sapranno come spenderli se loro fanno ripartire l'economia tirano fuori il paese dalla pandemia immettendo una quantità di soldi che se l'avesse approvata Bernie Sanders staremmo parlando di rivoluzione socialista ma siccome lo fa Biden lui è molto rassicurante questo per lui è un asset non spaventa gli americani proponendo una roba enorme gigantesca è un enorme cambiamento se fallisce e questa cosa non va in porto la sua agenda legislativa è tutta lì dentro queste leggi hanno messo tutto non è che ci riprovi tra tre mesi dopo che Trump ha provato ad abolire la riforma sanitaria di Obama ha fallito è finita lì non è che poi dopo due mesi dici ok riproviamoci non hai proprio il capitale politico da spendere e questa cosa qui viene molto poco raccontata ed è anche un po' noiosa io ho pensato in questi giorni dovrei fare un video su Instagram dovrei fare delle storie dovrei raccontare poi pensate è la cosa meno appassionante del mondo io ce l'ho troppo interessantissima perché grazie questo è mia allora lo faccio allora fallo fallo subito no perché come noi raccontiamo gli Stati Uniti speciale perché io spesso mi occupo magari di noi ci occupiamo non solo io di esteri lo facciamo magari in termini di contrasto alla Cina oppure di perché per noi è più interessante è più interessante quello però è anche interessante capire come poi l'America cambia e l'America cambia anche grazie a cose di questo tipo e anzi cose di questo tipo possono avvenire perché l'America un po' cambia perché se fosse quella di Trump che poi è strano perché è sempre la stessa l'idea che lo Stato diventi così presente sarebbe osteggiabile no? sì e no nel senso che poi questa è una delle cose che mi piacciono di più nel cercare di capire l'America è quando scopri che le cose cambiano per le ragioni a cui tu non penseresti mai in realtà con Trump per esempio la spesa pubblica in America è aumentata Trump era un repubblicano molto atipico per certi versi meno di berista del classico repubblicano alla Reagan se ne è fregato abbastanza del pareggio di bilancio dell'austerità anzi lui non voleva che non ha voluto tagliare il Medicare che è il programma sanitario quello per i più anziani e dall'altra parte quindi l'America di Trump Trump ha speso molto durante la pandemia ha fatto sì che i repubblicani accettassero un livello di spesa pubblica perché veniva proposto da Trump che oggi rende più difficile per loro opporsi a Biden quando dice spendiamo degli altri soldi e dall'altra parte l'energia che hanno tirato fuori le attiviste e gli attivisti democratici in questi quattro anni e che ha permesso per esempio di arrivare dopo l'omicidio di George Floyd a quelle proteste senza precedenti e l'elezione di Biden col maggior numero di voti preso da un candidato nella storia degli Stati Uniti tutta quella mobilitazione lì non è successa a causa di Trump senza Trump forse tutta questa mobilitazione le marce delle donne che cose che hanno il numero record di donne candidate al congresso in questi anni sono state una reazione è una contospinta dice al sì non voglio dire che devono ringraziare Trump che ha fatto tante cose buone dico che a volte che a volte le cose generano delle conseguenze che sono imprevedibili e che non sempre eletto Trump tutto andrà male viene eletto Trump un sacco di cose vanno male nella società ci si organizza e si muovono e nascono delle energie che altrimenti magari non avrebbero trovato l'occasione per venire fuori con questa forza wow era super interessante questa cosina super interessante grazie ma quando dicevo della sindrome dell'impostore non è una posa io ogni volta che faccio un video per Instagram per esempio penso sempre si annoieranno da morire lo chiuderanno dopo un minuto e mezzo anche perché poi i podcast li puoi ascoltare in sottofondo ma se apri un video su Instagram se vuoi vedertelo devi guardarti me per dieci minuti non è che poi vado su Twitter mentre ascolto no? e quindi sono delle cose dell'America che mi interessano e mi piacciono molto ma non so poi se effettivamente poi performano dell'engagement che si effettivamente a me sembra che stia funzionando speriamo ma invece posso fare il bis di Mirto? si abbiamo sostanzialmente finito quindi facciamo il bis di Mirto e ti racconto una cosa e poi ci andiamo a casa ti ricordi questa è proprio non è una domanda è proprio aneddotino adesso c'è una corsa infinita aneddotino di chiusura adesso tutti si aspettano la grande domanda finale invece ti dico una stupidaggine come il mio solito ti ricordi le volte che io ti ho contattato ti ho contattato due volte per due cose una me la ricordo forse l'altra qual è? no possiamo dire quando mi hai invitato a fare la prima stagione ah no ok tre volte è vero perché una volta oh no beh però dai oh no mi l'ho dimenticato è vero una prima volta ti ho invitato al podcast e non sei venuto vabbè non dirla così però e non sei voluto venire ho detto che non mi piace la Sardegna peggioriamo la situazione la seconda ti ho scritto perché mi avevi fatto un po' tenerezza nel senso che era dopo l'elezione di Biden no di Trump scusate il secondo Mirto siamo passati mi ricordo ti ricordi? ahah perché per una volta non mi sono sentito io quello che si cosparge del capo di cenere quando ha sbagliato anche se tu non avevi sbagliato niente nel senso lui ve lo dico mettiamo i panni in piazza ti hai lamentato dicono scusate se non mi sono accorto di quello che sta succedendo stava succedendo questa elezione non l'avevo vista arrivare non ve l'ho raccontata bene c'è la tale io ti avevo contattato e ti avevo detto no coraggio no mi hai incoraggiato you can do it la terza volta ed è questo l'aneddoto di chiusura ti ho scritto nel lockdown ti ricordi? aiutami ma il lockdown io in certe parti l'ho rimosso diciamo c'è stato un momento in cui dovete sapere che ora best friends potete dirmelo prima questa cosa che mi avessi detto no no volevo chiudere con l'aneddoto ora best friends dicevo però non avevamo molti contatti noi e io ti ho scritto a caso su twitter dicendoti che bello che sarebbe andare a fare un bel viaggio in moto negli Stati Uniti e viaggiare pensando a questo vice diretta del post di mirare questo è un deficiente e tu mi avevi scritto credo che sia il lockdown però quanto bello sarebbe lo facciamo? ma facciamolo certo che sì la segretà della moto no imparo grazie mille grazie a te grazie mille Francesco Costa grazie grazie quindi si fa si fa si fa si fa facciamo un podcast da lì poi ci inventiamo qualcosa andrà mostrato sui social certo potremmo fare che lo facciamo e non mostriamo niente a nessuno e non mostriamo niente a nessuno grazie mille grazie vi saluto ciao che dirvi spero vi sia piaciuto grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille spero vi sia piaciuto spero vi siate divertiti spero abbiate imparato qualcosa io non ho fatto che assorbire informazioni dire ah ah super interessante e dopo lo ripeto in Breaking Italy quindi grazie a tutti apprezzo un sacco buona serata buonanotte grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Visto, non ti ho lasciato in visto E sono un necromisto Proprio come sto disco Daño di un fil di canna Chibetiamo su la silla Dove il tiziano vende gelato, taguarra cha Dove le ragazze che spagano su la falla Sparcano a Ficari, Fujiti, Taliere, Macha Siamo pure a Gentai, Sardi, Alienius Breaking Italia Sismo ave la faña En tu culo e gelatina fa un faria Bala, 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 canta, 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 salta Canguretas come quali in Australia Braking, 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 bra Venta in love me and shoot the house tune Venta in 4 love me and shoot the house tune La gruva love me and shoot the house tune In media love me and my topo Venta in love me and my topo Venta in love me and my topo Venta in 4 fa fa Da reti to the ski Se no solo Red, 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 spread, spread Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.